Grazie Presidente, due breve comunicazioni. La prima riguarda, per la quinta volta, l'attesa del riordino della circolazione che aveva paventato prima dell'approvazione del bilancio di previsione lo scorso anno. Siamo ancora in attesa e sto esclusivamente ripetendomi perché le proteste in realtà di coloro che vengono nella zona sono in progressivo momento. Visto la presenza delle polemiche nate anche dai due nuovi divigili ausiliari, chiederei di procedere rapidamente se non altro al controllo del territorio. Seconda è invece rivolta in parte al Presidente perché sarebbe opportuno che l'utilizzo del sito web del Comune avvenisse in maniera proporzionale se non altro e in maniera rappresentativa. Ora io non ho problemi e sono uno di quelli che ritiene che la comunicazione debba essere esplaccia in tutte le sue staccettature. Però se sul sito del Comune io trovo le rassegne stampa personali, lo ritengo sicuramente non in linea con le pari opportunità. Quindi chiederei o una rivisitazione del sito del Presidente o una attribuzione per cortesia a ciascun consigliere di un'area riservata pubblica su cui pubblicizzare le proprie attività. Perché io nulla questo sul fatto delle relazioni del Consiglio, nulla questo sul fatto delle argomentazioni istituzionali, però le proprie rassegne stampa o i propri atti o i propri siti li lasciamo al di fuori della comunicazione istituzionale. Se non altrimenti chiedo anch'io lo spazio in maniera adeguata per mettere le mie emozioni, le mie azioni e anche i miei articoli di giornale. Grazie. Allora consigliere Ottogliani, visto che mi riguarda, allora dico subito, c'è una copia e poi gliela faccio per venire, di delibera, approvata in data, adesso lo troviamo, in cui noi come Consiglio Comunale abbiamo già approvato che ogni consigliere ha a disposizione, poi era stata proposta al Movimento 5 Stelle, c'è il Libero, c'è ogni consigliere che fa richiesta ha lo stesso spazio, stesso dedito spazio che io. Quindi l'avevamo già approvata in sede consigliare. Allora la replica è dovuta, in considerazione del fatto che le comunicazioni generalmente non vengono repliche, ma vista la situazione particolare io la pregherei di rendere informale a tutti i consiglieri la possibilità e le metodologie che debbono essere posti in essere per poter raggiungere questo spazio. Una volta fatto questo tutti siamo nella possibilità di inserire nel sito ciò che vogliamo. Terno restando che ritengo congrue da parte dell'ente il controllo del materiale inserito perché la responsabilità ricade sempre in opera all'amministrazione. Grazie. Passiamo al punto numero 2, approvazione per vali precedenti sedute del 26 febbraio 2013, dal numero 29 al numero 46 e del 19 marzo 2013 dal numero 47 al numero 58. la votazione è aperta. la votazione è chiusa, presenti 21, votanti 21, astenuti 9, favorevoli 12, contrari 0. astenuti, d'innocenzo, sì, di 9, urbani, ottaviani, solari, paoletti, romagnoli, arcioni. Il consiglio approva. Sono le ore 18.07. Iniziamo con le due ore concordate con i capigruppo delle interpellanze e delle interrogazioni. Punto numero 3 all'ordine del giorno, un'interpellanza sull'archivio di Stato e sull'archivio notarico del Comune di Fabriano. E' stata presentata al consigliere Rossi il relatore e l'assessore Fabrizio Rossi. Prego, signore. Allora, questa interpellanza, sì, è l'interpellanza sull'archivio di Stato e sull'archivio notarico del Comune di Fabriano. Tra l'altro è stato anche oggetto di discussione nell'ultima commissione che abbiamo fatto. Il sottoscritto consigliere comunale Emanuele Rossi, premesso che la sezione di archivio di Stato e Fabriano, chiusa al pubblico a diverso tempo, verrà soppressa per carenze di risorse finanziarie e di risorse umane e che di conseguenze i beni archivistici riconservati saranno trasferiti all'archivio di Stato in Ancona, che uguale sorte avrà l'archivio notarile di Fabriano, accolpato in detta sezione dall'86. Considerato che in questo caso Fabriano provava a rinunciare ad una parte importantissima al suo patrimonio storico e culturale, che oggi più che mai necessitiamo di una valida e pianificata tutela dei beni culturali, estesa a tutte le testimonianze materiali avente valore di civiltà. Si interpelle all'amministrazione, al fine di sapere se la stessa intenzione di avanzare alla direzione di archivio di Stato in Ancona, la proposta di depositare il materiale documentato dei due fondi, il notarino e il catastale, presso la sede dell'archivio storico comunale di Fabriano, annessa alla biblioteca pubblica, quando l'avevato esferita nella nuova sede complesso di San Francesco. Al fine di sapere se la stessa, per approfondire la problematica ai nostri beni culturali e studiare gli interventi più urgenti, ha intenzione di istituire una consulta comunale per i beni culturali, formata da cittadini con adeguati curricula, nominati dal Consiglio Comunale, non per scelta politica, ma selezionati in modo che ciascun membro sia un eccellente esperto in una disciplina attivante al patrimonio culturale. Quindi queste interpellanze sostanzialmente si chiedono due cose. La prima è quella appunto se oltre all'archivio pontificio, come è stato presentato in commissione, anche per l'archivio sostanzialmente, per gli altri due archivi, si può chiedere in Ancona se ce li teniamo noi. E poi successivamente se usiamo quella buona prassi che una volta si faceva, ma che in questa amministrazione non è stata fatta, c'è quella di creare le consulte. Quindi in modo tale che cittadini fabrianesi che sono proattivi, per esempio nei beni di conservazione dei beni culturali e in altre materie come queste, possano partecipare come consulenza alle scelte dell'amministrazione. Grazie consigliere Rossi, per replica l'assessore, Patrizia Rossi, prego. Allora, dunque, per quanto riguarda gli archivi, l'archivio di Stato della Salve di Fabiana è una sezione staccata dell'archivio di Stato di Ancona, che a sua volta è dipendente dal Ministero. Il Ministero, per questioni di contenimento della spesa, ha deciso di chiudere tutte le sezioni periferiche, tra cui Fabriano. Quello che noi abbiamo richiesto è di poter mantenere almeno l'archivio catastale a Fabriano. E su insistenza, diciamo, della direttrice dell'archivio di Stato della Salve di Ancona, la dottoressa Giubini, siamo riusciti, e grazie anche all'intervoto del sindaco, siamo riusciti a fare in modo che almeno questa parte dell'archivio, cioè quello catastale, potesse rimanere a Fabriano. Rimarrà a Fabriano questo perché il portale di Ancona sarebbe significato creare un disagio per i cittadini fabrianesi, in quanto questo archivio è quello che viene più consultato da professionisti, da storici, eccetera. E quindi verrà posizionato nella Salve del Sangue di Letto, dove, oltre ad un dipendente comunale, cioè un dipendente comunale, sarà affiancato da una persona esperta dell'archivio di Stato di Ancona, che, diciamo, fungerà da tutor, diciamo, finché il nostro dipendente non prende un po' mano nel settore. L'archivio notarile invece non è possibile mantenerlo a Fabriano, anche perché l'archivio notarile ha bisogno di essere seguito da un archivista con conoscenza di parrografia latina, cosa che noi non abbiamo, non possiamo assumere un'altra persona. E quindi, comunque, questo archivio, l'archivio notarile, viene consultato pochissimo dai cittadini fabrianesi, viene consultato da una ventina di persone, così non è detto l'anno, di cui uno o due sono cittadini fabrianesi e per il testo no. E quindi, ecco, noi siamo riusciti ad ottenere, di far rimanere a Fabriano soltanto l'archivio catastale. Per quanto riguarda le consulte, allora, le consulte sono un organo, diciamo, istituito già dal Consiglio Comunale nel 2004. Esistono consulte di diverso tipo, esiste una consulta anche, diciamo, della cultura, che si è riunita una sola volta, perché andrebbe, cioè io ho parlato con il Presidente della consulta che ormai è decaduta, cioè è decaduta questa consulta, nel senso che si rimaneva ogni due anni. Però, ecco, l'unica volta che si è riunita, non ho, diciamo, prodotto niente di costruttivo, perché, in effetti, visto chi fa parte di questa consulta, andrebbe un attimino articolata al suo interno, perché all'interno di questa consulta ci sono associazioni culturali e non, insomma, andrebbe un po' rivista. Quindi io avevo intenzione di proporre alla Commissione, di portarla in Commissione e di un attimo di valutarla in Commissione. Nella consulta venuta non è prevista la partecipazione quindi singoli cittadini, ma di rappresentanti delle associazioni, gruppi, insomma, chi, ecco, associazioni e gruppi che si occupano di cultura, ecco, quindi non singoli cittadini. Poi comunque, siccome giovedì la Commissione si riunisce, io credo che sarebbe opportuno che noi parliamo a confondire con la cosa in Commissione. Se io avessi saputo che la Commissione dell'altra settimana si occupava di questo, ci sarebbe venuta. Ma non mi è arrivata di venuta, quindi non sono potuta venire. Grazie, Assessore Rossi. Prego, Consigliere. Grazie, Assessore, però, cioè, vedi, Assessore, secondo me l'archivio notarile è una di quelle cose che non si può misurare nell'utenza che ha. Non è che qui stiamo parlando di uno spettacolo al teatro, se fa successo, se fa botteghino o non fa botteghino. L'archivio notarile rappresenta una memoria storica della città tefadriana, proprio degli atti che ci sono all'interno, che quindi non danno esclusivamente un interesse di natura su divisioni di terreni, accatestamenti o cose di questo tipo, ma danno più un quadro dell'evoluzione sociale economica del territorio, anche antropologica. Quindi io ritengo che in un'epoca di dismissioni, come stiamo vivendo in questo momento, per esempio la suessione del Tribunale che devia sempre amministrare l'ottuante, se noi facciamo una battaglia per conservarlo, questo archivio notarile, credo che faremmo un bene alla memoria collettiva della città di Fabriano. E credo che su queste questioni sia bene un po' anche impuntarci, perché se siamo riusciti a fare questo passaggio con l'archivio catastale, non vede il motivo perché non possiamo impuntarci anche per quell'altro. Ecco, ritengo che questo sia fondamentale. Per quanto riguarda la consulta, io non credo che un organismo pletorico dei rappresentanti di tutte le tipologie e le associazioni sia sostanzialmente quello che chiedeva questa interpellanza. Questa è un'altra cosa, magari noi ci confrontiamo con le associazioni per quanto riguarda magari degli eventi, delle feste, delle gestioni, degli spazi per i luoghi, per le associazioni e tutto quanto. Quello che si chiedeva era un po' di diverso, cioè era creare una sorta di stato di tecnici che sono presenti nel territorio e che quindi danno una sorta di consiglio e ricevono il lavoro e l'amministrazione. Per conseguenza, qui si dice magari scelto dal consiglio comunale questo organo, però non rappresentanti di ogni singola associazione, ma proprio un gruppo di lavoro che possa affiancare l'operato, dell'assessorato e dell'amministrazione per quanto riguarda la gestione dei beni culturali. Io l'ho fatto ritornare indietro in commissione l'atto, proprio perché volevo la presenza sua e la presenza dell'assessore, perché volevo discutere questa interpellanza. Credo che ancora siamo in tempo a puntare i piedi su questa questione, però anche questa cosa dipende non esclusivamente dalla possibilità di uscita concreta quanto precedentemente alla volontà politica dell'amministrazione. Quindi l'attesa è questo, perché a forza è smantellare piccoli pezzi della nostra città. Se incominciamo a perdere anche la nostra memoria storica, la nostra memoria antropologica, credo che non andremo a nessuna parte. Grazie consigliere Rossi. Passiamo al punto numero 4, interpellanza circa il monitoraggio della situazione di atti mandalici messi in atto presso la zona residenziale delle conce di Fabriano. È stata presentata il consigliere Leli Urbani Silvi, il relatore dell'assessore Paglia Lunga, che illustra il consigliere Leli. Prego. Grazie Presidente. Premesso che nella notte fra il 15 e il 16 marzo scorso sono stati messi in atto nella zona del centro storico delle conce di Fabriano degli atti volti intenzionalmente a spargere e rovesciare immondizia, nonché a danneggiare vasi, piante, vetrine, tavoli, perfino auto in sosta di proprietà dei residenti e degli esercenti commerciali della zona centrale, considerato che tali atti per così dire vandalici, non solo in questa occasione, ma anche in passato hanno costretti i residenti nel cuore della notte a scendere in strada per allontanare i molestatori, considerato inoltre che la tutela della sicurezza della città era tra gli obiettivi programmatici del sindaco Sagramola e che il sistema di videosorveglianza tramite webcam e spycam sembra essere lo strumento deterrente più efficace per il monitoraggio e la dissuasione di tali atti vandalici, ma come dichiarato sulla stampa, al momento ancora non è realizzabile fino all'approvazione del prossimo bilancio. Tutto ciò premesse il consiglio reato, chiediamo in che modo l'amministrazione intende nel frattempo arginare tale fenomeno e come intende nel frattempo tutelare la corte pubblica e i beni di proprietà dei cittadini. Grazie. Grazie consigliere Leli. Prego al sessore Paglialuga. Sì, abbiamo notizie di questi atti ai noi. Martedì mattina si è svolto un incontro al commissariato tra me, il commissario, Carabinieri e Guardia di Finanza. Noi abbiamo discusso alcune cose. Abbiamo finalmente riuscito a deliberare la messa in atto delle telecamere. Ne abbiamo discusso insieme dove posizionarle. Uno dei posti dove andranno a posizionare telecamere è in quella zona che registra sempre più spesso gli atti di cui lei racconta nella sua interrogazione. Devo dire che su questa cosa abbiamo in questo momento qualche dubbio perché nel momento che si partirà con i lavori del fiume giano dobbiamo vedere bene come sistemarla perché lì potrebbe diventare un grande cantiere e quindi andremo, siccome ne abbiamo a disposizione solo sette, a sprearne una per un lungo periodo di tempo. Questo è stato uno degli argomenti di discussione l'altra sera ma devo dire che il commissario su questo ha forzato molto perché ritiene anche lui che quella è una zona ad alto tasso di pericolosità e quindi lui più volte ci ha forzato per quella cosa. Contestualmente da oramai tre mesi, quattro mesi a questa parte, non le dirò né le date né i giorni perché sono a sorpresa, con il comando della Polizia Municipale abbiamo istituito dei servizi di pattuglia notturni, ripeto random, non avvertiamo i cittadini altrimenti ne abbiamo fatte già una diecina e continueremo con questi pattugliamenti random. Dico anche che purtroppo la situazione, ne abbiamo già parlato in questo Consiglio di avere i vicini sotto organico e quindi lo stiamo facendo proprio grazie per il fatto della loro collaborazione che ci hanno dato di fare alcuni pattugliamenti notturni. Bene, Assessore, prego Consiglio dell'Eli. Sì, ringrazio l'Assessore Paglia Lunga per la risposta. Prendo atto quindi che l'amministrazione comunale si è fatta carico di questo importante problema per la sicurezza dei cittadini. Certo, era interessante capire anche più o meno quando verranno installate le telecamere perché questo sostanzialmente non ce lo chiedono proprio chi in prima persona è stato toccato da questo problema. E se al momento non può dircelo comunque sia, concludo dicendo che invito e sollecito ad intervenire comunque nel più breve tempo possibile. Grazie. Grazie, Consigliere Leli. Punto numero 5 all'ordine del giorno. Interpellanza sulla realizzazione di un'area dedicata all'uscita e al passeggio libero dei cani. Presentato dal Consigliere Rossi il relatore e l'Assessore Paglia Lunga. Prego, Consigliere. Grazie. 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 Consigliere Rossi. Prego, Assessore Paglia Lunga. Questa avevamo incominciato a discutere già l'altra volta sulla questione dei giardini pubblici. Se il Consigliere ricorda, sicuramente ricorda, avevamo parto dall'ultima parte, avevamo deciso all'unanimità, mi sembra che ci fosse stato un ordine al giorno, da parte del Consigliere di Innocenzo, sulla fine del discorso di chiusura del divieto ai cani nei giardini pubblici. Qualcuno potrebbe chiedermi come lei? Grazie. 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 riguarda l'area di sgambamento, l'area di sgambamento lei sa perfettamente che esiste via Aldo Nero, è un'area che è discretamente attrezzata, stiamo provvedendo a migliorarla con una formula che adesso ancora non è definita perché dovrebbe intervenire uno sponsor e non abbiamo nessuna previsione di cambiare quell'area anche perché riaprendo i giardini e a quel punto io credo che possa essere sufficiente. Prego consigliere Rossi. Grazie Presidente, ma sì, sapevo l'ultimo giorno del consigliere di Innocenzo, attendiamo la modifica di questo regolamento, per quanto riguarda invece l'area canica, l'area laggiù non è attrezzata, è anche un'area decentrata, assessore, quindi per conseguenza non è che il costo della costruzione di un'area cani in prossimità del centro è minimo, è semplicemente una questione di volontà, però neanche sulle cose così semplici mi sembra che questa volontà ce sia. Grazie consigliere Rossi, punto numero 6 dell'ordine del giorno, interrogazione circa la richiesta del trasporto pubblico gratis. che ha compiuto 65 anni di età, per cui si è pari o inferiore a 13.000 euro, è stata presentata dal sottoscritto il relatore e l'assessore Galli. Salto la premessa dell'interrogazione, vedo subito la richiesta, si interroga l'assessore competente per chiedere se è possibile concedere l'uso gratuito degli autobus cittadini a tutte le persone che anagraficamente hanno compiuto i 65 anni di età, sono residenti del comune di fabbriano e hanno un reddito dato dalla giustificazione di sé, pari o inferiore a 13.000 euro. Prego, assessore. Grazie presidente, allora la sua interrogazione effettivamente ha posto la valutazione che già avevamo iniziato come settore trasporti di verificare la possibilità di concedere una gratuità per gli over 65. Devo dire che l'interrogazione ha consentito sicuramente di eseguire un primo studio che oggi ancora non consente di poter dare una gratuità a tutti gli effetti, ma che consente di pubblicizzare e rendere note quelle che sembrano sono le agevolazioni che sono già praticamente previste ma che non sono secondo noi sufficientemente conosciute. Questo approfitto dell'interrogazione proprio per dire che in base alla legge regionale 4598 e la relativa applicazione con la delibera di giunta regionale numero 1155 del 19 luglio 2010 esistono tutta una serie di agevolazioni, alcune delle quali vanno nella direzione già indicata nella proposta. In modo particolare voglio dire che ad esempio per i disoccupati che hanno un reddito ESEI inferiore ai 13.000 euro, dunque la fascia da lei indicata, esiste un'esenzione già totale, dunque c'è una gratuità. Devo dire che andremo a pubblicizzare, e questo lo avevo detto, lo stiamo valutando con il dirigente, che a fronte dell'agevolazione abbiamo soltanto tre tessere rilasciate di esenzione. Questo vuol dire che siamo carenti sul piano della comunicazione e dell'informazione di tutte quelle che sono già le agevolazioni esistenti. Agevolazioni che anche per i pensionati ultra 65 anni con reddito ESEI sotto i 6.500 euro sono del 75%, il che vuol dire il pagamento del biglietto nella misura del 25% e per una fascia sotto i 13.000 euro tra i 6.500 e i 13.000 euro una riduzione dei biglietti del 50% per l'autobus. In questi due casi sotto i 6.500, tra i 6.500 e i 13.000 euro, alla data attuale risultano rilasciate sette tessere. Dunque questa interrogazione ci ha fatto riflettere e dunque ci incontra positivamente per andare a divulgare nel modo migliore attraverso la stampa, attraverso i manifesti, attraverso l'informazione, tutte quelle che sono agevolazioni sia per gli over 65, così come anche per gli studenti, così come per i disoccupati o comunque per gli occupati con redditi inferiori con fasci 6 a 13.000. Tutto questo lavoro lo dobbiamo inserire con attenzione, senza dunque assumere l'impegno della verifica ma non immediata dell'applicazione in relazione al bilancio di previsione del 2013 nel quale andremo a vedere tutte le tariffe individuali e dunque andremo ad attivarle nei limiti possibili. Grazie Assessore Galli. Passiamo al punto numero 7 all'ordine del giorno. Interpellanza su una dichiarazione esternata a mezzo stampa dall'Assessore alle politiche sociali in ordine ai presunti crediti esigibili dal Comune nei confronti dell'attuale gestione della piscina comunale. È stata presentata il Consiglio Ottaviani, il relatore e l'assessore Saita. Prego Consiglio Ottaviani. Grazie Presidente. L'interpellanza in relazione anche a quanto si era, era stata evidenziata nell'ambito dell'approvazione del bilancio consuntivo, laddove si è visto che il Comune riesce ad intascare per una percentuale circa intorno al 20%, se non sbaglio, dei crediti esigibili nei confronti degli utilizzatori di impianti sportivi. Lo spunto nasce da un articolo comparso nel resto del Carlino del 16 marzo, dove, leggo testualmente, l'assessore servizi sociali riferisce che il Comune ha accumulato crediti per diverse decine di migliaia di euro, sul quale a questo punto è decisamente il caso di fare chiarezza. Si tratta di mancati pagamenti, in parte relativi anche all'operazione iniziale e all'appalto assegnato, ormai da alcuni anni, e quindi penso iscritti ai residui attivi conservati, ma così non si può andare avanti. Per questo motivo il Comune ha dovuto giocoforza a decidere di non versare più la sua quota, 8 euro sui 16 a seduta, per la presenza dei disabili in piscina. Successivamente, dopo qualche giorno, sempre nel resto del Carlino, abbiamo la replica dei gestori della piscina, che afferma che non abbiamo alcuna morosità nei confronti dell'entro municipale, nessuna fattura risulta non pagata, non si capisce quindi quali piani di rientro possono esserci chiesti, risulta invece chiaro fare delle considerazioni personali rispetto al progetto di versamento abili. Sicuramente l'intervista nasceva nel contesto, penso che l'assessore, in questo caso, Saita facesse parte, il suo enunciato, nell'ambito di una richiesta più ampia riguardo la specificità del suo assessorato nei confronti delle prestazioni offerte a disabili da parte del Comune, e quindi ha colpito il fatto che poi successivamente non vi sono state più controdeduzioni. Allora, la mozione era anche in previsione poi successivamente, quando rinnovano di discutere nuovamente il bilancio, sapere se esiste o meno una situazione reale di morosità, e riferito ovviamente al 16 al 24-3 2013, ed in caso affermativo l'entità e la detustata è la stessa. se poi è vero che si è paventato il tentativo di un'azione risarcitoria attraverso la sospensione del contributo comunale alla pratica sportiva in basca per i diversamente abili, di cui tra l'altro poi è scritta all'ordine del giorno anche una mozione presentata da IPDL che è la 16773 del 28-3 2013. Grazie Presidente. Grazie Consiglio dottor Giovanni, prego Assessore Seitta. Grazie Presidente. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 una intenzione di ricercitoria nei confronti degli diversamente abili, ma soltanto il fatto che il Comune non aveva previsto di venire incontro a questa necessità è stato finanziato fino al maggio 2012, dopodiché in realtà per questioni esclusivamente economiche, perché non avevamo i soldi, abbiamo dovuto sospendere questa possibilità di venire incontro ai diversamente abili. Questo non vuol dire che non faremo mai più niente nei confronti dei diversamente abili che vogliono andare in piscina, però bisogna anzitutto trovare i soldi e poi sarebbe opportuno che la piscina provvedesse a pagare quello che deve. Oltre questo ci sono anche dei conguagli in via di quantificazione sicuramente di minore importanza. Grazie Assessore, per repriga il Consigliere Otteriani, prego. Sì, avrei bisogno solamente di conoscere un dato a quanto ammonta la correstazione e il contributo di 8 euro per i disabili nell'ambito sull'arco annuale. A quanto ammonta? L'esposizione del Comune è derivata da l'intervazione. A niente, a niente. No, no, noi non abbiamo dato proprio niente, cioè non c'è nessuna esposizione da parte del Comune. Noi non abbiamo mai detto che dovevano continuare a fare la stessa attività. Noi abbiamo detto a loro che veniva sospesa l'attività quando ho preso l'incarico, dicendo che avremmo valutato nel futuro se era possibile. Ma non c'è nessuna esposizione da parte del Comune nei confronti della piscina. Ma il Comune in precedenza pagava il contributo di attraverso? Pagava il contributo. Il totale, su base annua, di questo contributo per il Comune. E quanto incideva? Nel 2012 era qualche migliaia di euro, non è che era una cosa spaventosa? Sì, grazie Assessore. Allora, io volevo solo, innanzitutto non penso che se la situazione è questa, il gestore della piscina possa permettersi contro l'ente pubblico di stigmatizzarne il comportamento se è vero che esistano ancora dei crediti esigibili dal Comune. Seconda cosa, non penso però che in virtù di 5.982 euro che dobbiamo andare a riscuotere, il Comune non abbia strumenti per esercitare... 65.000! 65.000! Allora, se 65.000 euro deve essere dato alla piscina, alla Comune, io se sono in prevenzione elettrica penso che il Comune lo abbia anticipato questi soldi. e allora io mi trovo in una situazione di difficoltà poi andare a sentirmi dire insieme di bilancio che non esistono circa 10.000 euro per le esposizioni o per le proposte che la minoranza fa. e in secondo luogo, l'articolo che era comparso, io comprendo che la decisione di sospendere il contributo ai disabili di piscina fosse antecedente alla registrazione del credito, perché lei ha detto che è stato disposto dal maggio 2012 la sospensione del contributo. certo. Quindi era di ben lungo antecedente quasi un anno prima alle dichiarazioni comparsa sul giornale. No, Presidente, non ci siamo capiti. Consigliere Togliani però conosce molto bene il regolamento. Si. Cioè c'è stata l'esposizione, la risposta... No, 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 non si è replicata. No, non si è replicata. Non si è replicata esclusivamente, non si è replicata. Sì, però se facciamo il dialogo... No, 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 non ho chiesto una spiegazione e lì mi sono fermato. Punto. Lei interpreti come vuole. Io sto dicendo solo che se dalle parole riferite all'assessore il servizio di integrazione dell'avviato euro per la partecipazione all'intervistanza per avere diversamente abili era già stata decisa la sospensione a maggio 2012, non vedo cosa c'entra andare su un giornale su una comunicazione che legge tutta la cittadinanza, andare a torre su un piano di recupero dei crediti, cioè su un'immoralità di pagamento. Guardi, prima non ero 8 euro, erano 18 euro. Vabbè, io leggo esclusivamente... Vedi, Presidente, non sono io a chiederle, quindi abbia pazienza. Io quello che ho come informativa è ciò che leggo sul giornale. Mi sembra che, innanzitutto, avrei sicuramente gradito una presa di posizione a parte l'amministrazione in replica al gestore della piscina da parte degli assessori se non altro alle finanze e allo sport, perché chi rimane con questa comunicazione intende dire che la piscina ha smentito, ha sbugiardato l'amministrazione. Questa non è buona cosa in termini di comunicazione. Se la piscina, abbiamo un credito esigibile di 65 mila euro. Secondo, quei 65 mila euro abbiamo già anticipato noi e quindi il Comune dopo un anno è invitato, se non altro, a porre in essere altre misure correttive per un recupero crediti, perché al cittadino che non paga dopo tre mesi arriva in Italia. E noi, inoltre, c'è un doppio danno, perché abbiamo anche una perdita di un rendimento di 65 mila euro nelle casse comunali, quindi mi sembra che sia un pochino leggera la situazione nella gestione. Altrimenti ci sono clausole previste e contrattuali che possono andare ben oltre quella della sospensione per azione morale del contributo, come è stato scritto qui. Abbiamo visto e sviscerato che non si tratta di un deluto des, come invece sembrava dalla costruzione dell'articolo, e che quindi il concetto di immoralità non deriva dal dare e continuare a integrare la rete. Penso che i diversamentabili non debbano essere minimamente tirati in causa in una situazione di questo genere. Mi dispiace che sia stato fatto dall'assessore, perché in termini, torno a ripetere, io non sto leggendo personalmente nessuno o accusando nessuno, sto dicendo che il percepito dalla popolazione che poi ti sottolinea questi articoli è che il comune per ripicca sospende il contributo ai diversamentabili per la loro attività, cosa che in termini adesso come riferirà assessore non è vero, non corrisponde a vero. Seconda cosa, io volevo sapere se è vero questo, stiamo continuando a pagare ancora le utenze della piscina? Questo lo chiedo magari all'assessorato finanza che è uscito, perché non capisco se poi vada di mezzo l'interruzione del pubblico servizio se noi dovessimo non pagare. Però a questo punto, se loro hanno la prepotenza di rispondere in quel modo, fermo restando che potrebbe anche accadere che alcuni di questi, se quei 65 mila sono riferibili addirittura all'offerta, alla vincita, al conferimento dell'appalto, ormai sono inveterati, sono residui. Quindi neanche pensare che ci siano rate in pagamento adesso, che sono rientrati. Io vi invito a fare qualcosa agli assessori competenti sport e finanze, a fare qualcosa in serio, perché io continuo a pagare la luce a questi signori che poi mi ritrovo a non dover recuperare contemporaneamente, non ho i soldi, qualche migliaia di euro, per continuare a fare un progetto di recupero diversamente abili in piccina. Non mi sembra eticamente corretto. Grazie Presidente. Bene consigliere Ottogliani, il punto numero 8 è un'interpellanza presentata al consigliere Solari. Ottogliani, il redattore e il sindaco. Non è presente il sindaco, quindi consigliere, la rimandiamo. Prego. Benissimo, quindi passiamo al punto numero 9, interpellanza sulle mancate risposte alle domande integrative poste in occasione della discussione dell'interpellanza in ordine alla delibera aggiunta comunale numero 32, del 27 febbraio 2013, presentato il consigliere Ottogliani, il redattore evangelistico, vero? Prego consigliere Ottogliani. Sì, grazie Presidente. Vedo che anche per questa, come per la precedente, cambia il redattore. Un'altra volta avrebbe dovuto rispondere Tino a risposta all'anello, questa volta avrebbe rispondere all'anello e rispondeva agilisti, vabbè. Avrei preferito una risposta politica e non tecnica comunque. Allora, l'interpellanza nasce da un'interpellanza che avevo già presentato, e in quell'occasione avevo posto delle domande integrative al di fuori di quello richiesto dalla mia interpellanza inviata all'ordine del giorno e sono oggi, non avendo avuto risposta, sono oggi a richiederle. Io capisco che possano essere delle questioni eccessivamente tecniche da discutere in ambito politico, ma il ruolo di un consigliere è comunque quello di controllo anche tecnico degli atti. Io non sono in grado di avere delle risposte perché certe nozioni e certe competenze non ne ho, quindi non vedo nulla di strano a chiedere all'amministrazione. Poi verrà data ovviamente risposta. Vediamo in relazione alla delibera di giunta numero 32, quella avendo oggetto i lavori di realizzazione della nuova strada, ed ingresso in cui inizialmente era stato appaltato un lavoro per questa nuova strada necessaria di, se non sbaglio, 347 mila euro. In corso d'opera giungiamo a una variante di 290 mila euro dovuta e richiesta per il consolidamento delle mura prospicenti a questa nuova strada. E allora sono a rivolgere questa volta all'architetto Vangelisti, visto che è lui che sarà a rispondermi, se l'aperizio di variante di cui ha la delibera in oggetto, a quale, secondo il codice degli appalti, a quale tipologia sia per ricondurre, quali siano le argomentazioni espresse nella stessa delibera che legittimino, o nella stessa perizia ovviamente, che legittimino il ricorso all'istituto della variante, se le opere previste dalla variante rispondono al criterio di accessorialità al progetto iniziale, se considerando la rilevanza e la spesa deliberata pare al 90% dell'appalto originario, sia stato leso il principio pro concorrenziale. Nulla questo sul fatto che il 90% sia rilevante perché alcune varianti hanno un importo illimitato. Il problema è che se queste varianti devono avere un importo illimitato, devono essere ricondotte a specifiche tipologie del codice degli appalti, perché per altri vi sono limitazioni al 50% o alla quinto in relazione poi agli eventuali atti di sottomissione dell'aggiudicatario. Tutto qui. Grazie. Bene consiglio Ottogliani, prego. Evangelisti. Allora, in merito al primo punto, la perizia di variante è stata redatta, secondo quanto previsto, dall'articolo 132,1, lettera B e comma 3 del codice degli appalti, decreto legislativo 163 del 2006. La motivazione principale che ha condotto alla variante la leggo dalla relazione del direttore dei lavori, riportata poi anche in delibera, e recita le condizioni attuali delle mura perimetrali al nucleo storico di quel vedere, adiacenti alla strada in costruzione, appaiono al momento aggravate anche a causa dei eventi atmosferici avversi della passata stagione invernale. intervenire su di esse e quindi al momento necessario, sia per garantire la necessaria sicurezza nelle fasi di realizzazione dei lavori di appaltati, sia per conseguire un utilizzo sicuro della costruenda strada, oltre che per scongiurarne il definitivo collasso. Quindi sono motivazioni che riconducono al citato articolo 132,1, lettera B del decreto 163 del codice degli appalti. La variante è inoltre stata redatta ai sensi del comma 3, quindi fino alla concorrenza del 5%, per migliorie apportate al progetto di costruzione della strada. Le opere invarianti sono assolutamente connesse e complementari al progetto iniziale, in quanto strettamente connesse ai lavori di realizzazione della strada. In merito all'ultimo punto, l'articolo 161,13 del DPR 207 2010, che è il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 163, si prevede che se la variante supera il limite del quinto dell'impolto dell'appalto, il responsabile unico del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che nel termine dei 10 giorni deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. questo perché ovviamente le varianti potendo modificare le condizioni dell'offerta fatte da parte dell'appaltatore potrebbero determinare per l'appaltatore una non economicità nella prosecuzione dei lavori e quindi deve firmare entro i 10 giorni l'atto di sottomissione alle stesse condizioni del contratto iniziale. Quindi la variante rientrando nelle condizioni dell'articolo 161 avendo dato la comunicazione all'esecutore e avendo avuto entro 10 giorni la dichiarazione di accettazione alle condizioni imposte dall'amministrazione tramite la sottoscrizione dell'atto di sottomissione non si configura questo caso come caso di lesione del principio pro concorrenziale. Grazie Architetto Evangelisti per replica Consiglio Ottaviani. Grazie Architetto. Quindi secondo quanto vale detto sarebbe la variante sostanziata e ricadrebbe nella specificità dell'articolo 132,1 lettera B che se non sbaglio recitava la previsione di cause impreviste e imprevedibili. Quello che mi aveva colpito a me e probabilmente politicamente solo al sottoscritto è che l'imprevedibilità dell'atto mal si sostanzia con il fatto che nella perizia e variante come asserito anche nella conferenza dei servizi regionali perché poi lei mi ha trasmesso tutta l'intimere quindi questa variante ha in realtà tutte le autorizzazioni, la commissione, il paesaggistico però lei mi dice come ha letto anche da parte del direttore dei lavori cioè noi sapevamo già che le mura da quella parte si trovavano in uno stato di necessità di rifacimento ma non avevamo appaltato il lavoro perché non avevamo risorse sufficienti questo è scritto sulla delibera ed è scritto anche nella conferenza dei servizi regionali allora se noi eravamo già a conoscenza della situazione delle mura in cui viene messo anche dal direttore dei lavori se non sbaglio viene messo un piccolo inciso, l'assessore taglia lunga per cortosia un piccolo inciso in cui dice peggiorate dagli ultimi eventi atmosferici dell'anno precedente allora attenzione, se questa situazione, la situazione delle mura era già conosciuta a mio giudizio non rappresenta una causa imprevista è imprevedibile e pertanto quella variante non poteva essere sostanziata io sono perfettamente d'accordo e capisco anche l'azione del dirigente che ha voluto velocizzare in presenza di risorse attribuite e realizzare un'opera che comunque sarebbe dovuta essere stata fatta quindi non è questo però quello che mi stupisce e quindi divido le responsabilità e ritorno al commento che aveva fatto fuori microfono l'assessore Allianello è che questo non rappresenta una capziosità tecnica questo rappresenta un avvallo tant'è che il nostro dirigente ci ha detto attenzione, se esiste un impegno di spesa per un nuovo lavoro non è più il direttore dei lavori o l'esercitore o la stazione appaltante ma è l'organo, cioè la giunta che illegittima la spesa quindi dalla giunta sinceramente io qualche perplessità avrei voluto vederla sollevare e nulla a che fare che la giunta sia un organo politico perché alcune competenze almeno debbano essere in essere a chi il posto occupa allora non so come procedere in questo sinceramente perché io non mi ritengo soddisfatto della risposta e penso di averla anche sostanziata in maniera abbastanza caratteristica avrei pensato anche ad una variante viceversa per eventi cioè al comma 132 comma 1 lettera C rinvenimenti imprevisti presenza di eventi di natura specificità di beni diversi sinceramente io non riesco a sostanziarlo la variante con l'articolo sul citato ritengo che invece essendo anche questo è concluso essendo anche dei lavori a corpo come viene poi riflettuto nelle determini dirigenziali doveva essere si doveva procedere ad un nuovo appalto io torno a ripetere le varianti sono d'accordo non sono di quelli che dicono il 90% è troppo non è vero può essere infinito non c'è un limite dell'importo ma torno a ripetere la variante è ammessa esclusivamente quando rientra nei casi previsti e legittimati dal codice e sicuramente faccio difficoltà la sostanzialità della variante è anche vero che l'evidenza di una variante sostanziale non va legata ai singoli aspetti tecnici su questo siamo d'accordo bensì agli effetti e questo lo dice anche la Cassazione che tali variazioni avrebbero potuto avere se già presente comunque note sulle offerte fatte dagli altri concorrenti che al tempo hanno partecipato alla gara d'appalto ciò in quanto vanno salvaguardati i principi di concorrenza e parità di condizioni che altrimenti risulterebbero lesi dal mutamento sostanziale per importo o entità del progetto dell'opera posto a base della gara di evidenza pubblica quindi no, io non mi ritengo soddisfatto ma non mi ritengo soddisfatto in particolar modo per la mancata, l'assenza completa in controllo politico perché la giunta non ratifica gli atti che vengono passati sotto la giunta ha quando firma l'obbligo di controllare poi posso io mi immagino che io stia sbagliando nella mia interpretazione e che abbia altre ragioni vuoto l'amministrazione ma da quello che ho avuto in risposta penso e sono ancora più convinto che il percorso dovesse essere un altro mi stupisco che anche a livello regionale ci siano alcuni passaggi nella conferenza dei servizi non lo so, bisognerebbe rileggerli bene, che però ricavalcano in maniera pedisseco a quanto proposto direttamente tolto il corso paesaggistico eccetera eccetera, quei vincoli che erano, le prescrizioni che erano state date io vi ringrazio il Presidente e ho concluso bene consigliere Ottaviani andiamo avanti punto numero 10 all'ordine del giorno interpellanza sulle deiezioni dei cani sul suono pubblico è stata presentata dal sottoscritto il relatore e l'assessore Paglialunca interpellanza cita, viste le continue segnalazioni elementali di cittadini in materia di abbandono e di deiezioni dei cani nelle aree pubbliche chiede al sindaco e all'assessore condone dagli animali da affezione di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per assicurare un'effettiva azione di prevenzione e di controllo se ritengono opportuno attivare una campagna di sensibilizzazione rivolta ai proprietari dei cani prego Assessore Paglialunca molto tempo fa, oramai penso più di 3 anni nel 2009 nel 2009 affrontammo già questo problema perché avevamo continue lamentelle da parte della popolazione su questo problema è un problema che riguarda non certi cani ma riguarda la sensibilità e il senso civico dei loro proprietari avendo più volte riscontrato la difficoltà nel poter multare i proprietari perché quando magari vedono la forza pubblica trascinano via il cane anche se in quel momento abbiamo pensato di fare una ordinanza del sindaco numero 59 del 5.8.2009 mantenimento del decoro urbano e delle deiezioni canine sul territorio urbano che cosa prevede questa ordinanza? Dà la possibilità al vigile urbano che vedendo passeggiare i proprietari con i propri animali possono essere fermati diciamo preventivamente anticipatamente anche se in quel momento il cane sta solo passeggiando chiedendogli se sono in possesso di strumenti per raccogliere le loro eventuali deiezioni se il proprietario viene trovato sprovvisto di questi strumenti abbiamo pensato che la multa poteva essere preventiva successivamente abbiamo anche alzato la multa da 25 euro a 500 euro contestualmente a questo siccome io penso sempre che prima di tutto debba essere fatta opera di sensibilizzazione abbiamo messo purtroppo tornando sull'annoso problema dei soldi pubblici che mancano abbiamo messo in collaborazione con una ditta fabianese della Air First che colgo l'occasione per ringraziarla 12 contenitori dove raccogliere queste deiezioni e sempre in questo ambito di sensibilizzazione abbiamo fatto un accordo e anche qui approfitto per ringraziarli perché non c'è stata mai occasione in Consiglio Comunale con il negozio l'Isola dei Tesori che è un negozio per alimenti per cani, per giochi ed altro che ci regalò 10.000 tacchetti che consegniamo in piazza insieme agli ecovolontari tutto questo che cosa ha portato? devo dire che finché sono stato visto che c'è stato un calo un calo abbastanza consistente rispetto agli anni precedenti ma nonostante questo nonostante questo calo sento che lei Presidente me lo segnala continuano queste cose ad avvenire a seguito di questo abbiamo organizzato 7 servizi in Borghese i nostri vigili che sono usciti in Borghese per la verifica del comportamento dei conduttori di cani dal giorno 23 aprile al 14 maggio dalle ore 7 alle ore 30 da presto i giardini di Viale Moccia che è l'area che lei indica e devo dire che in quei giorni in cui i nostri vigili sono usciti in Borghese non sono emerse irregolarità aggiungo anche e concludo che i giardini non sono risultati sporchi di escrementi quindi io invito a lavorare sulla prevenzione sulla sensibilità e visto che tutti quanti noi siamo quasi tutti su Facebook, Twitter e tutti di pubblicizzare un po' questa cosa e di sensibilizzare ad amare un po' di più la propria città perché soltanto in questo modo io credo che più che con le multe potremmo far sì che i conduttori di cani rispettino queste norme aggiungendo appunto che comunque se colti in fregante verranno stanzionati con multe che avrebbero chiesto tra l'altro di essere estremamente rigidi addirittura possono arrivare a 500 euro Grazie Assessore Paglia Lunga passiamo al punto numero 11 all'ordine del giorno interpellanza sulla situazione della Indesit Company presentata ai consiglieri Arcioni e Romagnoli il relatore è l'assessore Galli Prego consigliere Romagnoli Arcioni scusi Grazie Presidente Grazie Presidente Diciamo più che posso? Allora più che un'interpellanza questo è un grido di dolore noi abbiamo risposto fondamentalmente anche a delle lettere che ci sono arrivate di dipendenti molto preoccupati la cosa la cosa fra l'altro preoccupante di questa vicenda è che è passata nel silenzio più assoluto di tutti cioè quindi dell'azienda, dell'amministrazione, dei sindacati e noi abbiamo cercato un po' di capire quello che sta succedendo perché qui ne parla del futuro di tutta la nostra comunità e siamo andati a verificare parlando diciamo confronti diciamo a dir poco d'orori di queste cose sono partiti dal 1 aprile 24 giorni di cassa integrazione guadagni per tutti gli impiegati Italia d'aprile ad agosto che si sommano alla cassa integrazione guadagni già prevista ed in corso negli stabilimenti italiani per il 2013 questa è l'ultima novità in casa Indesit Company che getta ulteriormente nello sconforto la comunità fabbrenese o almeno a noi getta nello sconforto le lettere sono state volutamente tenute stand by dal 15 gennaio le cassette in azienda per tutto il periodo elettorale poi a relogeria ecco il regalo del dopo elezioni ancora una volta e questa è una caratteristica che si ripete un'azienda sana scarica sulla collettività i suoi problemi gestionali e caparanno se le nostre spese e risorse pubbliche potrebbero essere utilizzate per la piccola e media impresa il vero cuore pulsante del paese che occupa il 90% della forza lavoro attiva come dicevamo abbiamo raccolto informazioni che ci spiegano magari in parte la genesi di questa ulteriore preoccupante deriva dell'occupazione nel nostro territorio confermate ripeto da fronte autorevoli tra il 2011 e il 2012 Indies Company ha sostenuto elevatissimi costi per investimenti a dir poco discutibili e che non stanno portando di dove niente a termini di fatturato né di quota del mercato uno fra tutti è il trasferimento a Milano di tutti o quasi direttori di Fabriano l'operazione è servita sicuramente avvicinare a casa i direttori in ordine residenti che viaggiano in media una volta a settimana su Fabriano utilizzando l'aeroprivata aziendale a spese dell'Indies Company la sede a Milano ha significato naturalmente il raddoppio di assistenti e l'assunzione di dipendenti sul posto con stipendi mediamente più alti dipendenti di Fabriano duplicando a volte figure già presenti in azienda inoltre molti dipendenti di Fabriano sono chiesti di trasferirsi a Milano aggiungendo costi di relocation per i manager ognuno ha preso un po' di soldi per risiedere stabilmente a Milano inevitabilmente si è creato e questo preoccupante un forte disorientamento dei dipendenti rimasti a Fabriano che possono incontrarsi con i responsabili solo alcuni giorni alla settimana creando discontinuità per l'efficienza lavorativa in Polonia presso la strada di Loz dove già esistono quattro stabilimenti in Indies Company sono stati fatti investimenti enacronistici creando lo stabilimento di stampaggio componenti plastici di basso valore da utilizzare negli elettronomestici oltre 50 stampi sono stati riportati in casa dagli stampatori esterni quindi fornitori anche locali l'azienda adesso impianti per processi che richiedono alta specializzazione e manutenzione continua utilizzati da personale senza esperienza senza permesso a baggi e sufficienti fondi per la montuzione degli stampi che si fermerà nel seguito al primo problema tecnico dove si accorre sul magazzino centralizzato a Milano si è investito nella verticalizzazione processi logistici affidati filaglieri e fornitori esterni locali circa tre anni fa si è investito per uno showroom scioltese al mondo per il lancio del marchio del Regno Unito con un contratto di affitto pluriannale a centinaia e migliaia di euro dopo il lancio lo showroom è stato chiuso ma l'onereo degli affitti rimane la sensazione è che sia in atto fra virgolette un assalto alla dirigenza da parte di un gruppo dirigente che sta facendo il bello e cattivo tempo svuotando piano piano l'azienda senza che nessuno tantomeno la proprietà contrasti la deriva imposta da il manager e i suoi collaboratori di fiducia che mentre chiedono sacrifici ai ritenenti pensano bene di rinunciare se sono pochi euro hanno ordinato i premi per gli obiettivi quali obiettivi? certo sicuramente quelli derivanti dalla cassa integrazione il giochino ormai è diffuso a livello nazionale si manda in cassa integrazione alcuni dipendenti degli uffici chiediamo a chi rimane ricoprire il lavoro e chi non è l'azienda magari con un calcio esterno ordinario o facendo lavorare qualcuno magari anche da casa alla fine i conti per gli azionisti e potenziali acquirenti tornano sempre per il maneggimento in tasca i suoi premi noi come Movimento 5 Stelle considerando che la cassa integrazione guadagno è un istituto previsto dalla legge italiana che consiste nella prestizione economica erogata dall'Inps quindi con soldi della collettività non ci stiamo a vedere spolpata e poi svenduta piano piano l'azienda più prestigiosa del nostro territorio da parte di un gruppo dirigente chiaramente ad oggi incapace i privilegi del quale non vogliamo sostenere con soluzione. Mentre scriviamo e questa dichiarazione è stata superata da fatti sembra che il prossimo 7 maggio proponiamo alla presidenza del gruppo e che i mercati speculativi abbiano reagito positivamente all'ambutizia i mercati hanno bisogno sicuramente di qualcuno che garantisca una cessione interessante da azienda potenziali partiti internazionali e come scrive Milano Finanza potrebbero essere Wilbur, Eletrolux, General Electric o Bosch Simmels si è nominata anche un'azienda turca e chi è meglio quindi dell'attuale gruppo dirigente ma in tutto questo c'è il futuro di un'intera comunità della nostra comunità il Movimento 5 Stelle chiede alla famiglia Merloni con il cuore in mano di sostituire l'attuale management del suo staff che ha dimostrato ampiamente non saper gestire la difficile congiuntura economica sostituendolo con una figura per adegna rappresentare un marchio prestigioso con l'Index & Company riportando a Fabriano la testa dell'azienda aspettiamo infatti che la proprietà faccia rientrare nella sede naturale di Fabriano tutto il personale delocalizzato a Milano tagliando tutti i costi nutrici generati e tutti gli anacronistici benefits al personale dirigente risorse sicuramente da rinvestire ricerca e sviluppo che consolidano la piena occupazione degli impiegati che andranno in cassa integrazione crediamo infatti sia importante che in un momento congiunturale così difficile non possono esistere nella società come nelle aziende zone franche impermeabili alla crisi e gli diamo l'attuale management a fare un passo indietro vedete la nostra è una piccola comunità che però ha prodotto storicamente lucidemente imprenditoriali che hanno creato nel bene e nel male un comprensorio simbolo del modello industriale marchigiano una storia lunga e prestigiosa intorno alla quale si sono plasmati il futuro ed i sogni di tante famiglie non siamo disposti a far capitolare la storia nelle mani di chi con la puzzetta al naso si trasferisce a Milano solo per Roma sua all'attuale management chiediamo gentilmente di fare un passo indietro perché la nostra comunità non ha più bisogno di loro ha dimenticato una cosa importante un abbraccio al dottor Vittorio che non credo avrebbe permesso tutto questo perché lui ha sempre sostenuto che la testa dell'azienda dovesse rimanere a Fabriano noi cosa chiediamo al sindaco e alla giunta se sia in grado di farsi portavoce della comunità e di interfacciarsi con la proprietà Indisi Company per rappresentare quanto richiesto al Movimento 5 Stelle in premessa ed in particolar modo chiedere con il cuore in mano che vengano fatti rientrare nella sede naturale di Fabriano tutto il personale delocalizzato a Milano consolidando la piena occupazione degli impiegati che andranno in casa integrazione e riportando a Fabriano anche il giro d'affari legato alla presenza di questo personale nella nostra città attraverso locazioni, ristorazioni e quant'altro. Grazie. Bene consiglio Arcioni, rispondo all'assessore Galli. Grazie presidente. Ho ascoltato l'illustrazione dell'interpellanza e sinceramente su questo modo di affrontare l'argomento sulle problematiche del lavoro sottoscritto e pertanto la Giunta non condivide la metodologia. Non la condivide facendo riferimento anche a quelli che sono stati i passaggi precedenti che abbiamo portato avanti e che risalgono all'ultimo Consiglio Comunale con il quale praticamente erano state invitate le più grandi imprese e non la condivide perché riteniamo che non sia questo l'approccio con il quale si possano instaurare, portare avanti, sviluppare delle interlocuzioni, dei rapporti per sensibilizzare e per ottenere risultati di ricaduta per il territorio. Si era già detto che nei rapporti avuti con la società la questione relativa a tutti i gruppi per quanto riguarda dei loro piani industriali non può essere, riteniamo, motivo o influenzato in senso stretto dalla politica. Diverso sono i rapporti istituzionali per cercare di discutere del territorio da un punto di vista economico. Noi stiamo affrontando il lavoro, tutti i componenti consiglieri lo sanno in sede di Commissione Lavoro, anche l'ultima seduta è stata il 14 maggio, trattando argomenti in cui è la sede, riteniamo che a livello strutturale e non specifico con queste modalità possa essere affrontata la problematica. Per cui non è un rigetto alla problematica del lavoro in senso generale, è un rigetto alla modalità specifica con la quale viene affrontato questo tema. Il tema del lavoro è un tema, lo sappiamo, difficilissimo, particolare, richiede una valutazione e una modalità operativa diversa. Non credo che sia questa la modalità per affrontare la problematica dunque su Indesit Company. Bene, Assessore Galli per replica Consigliere Arcioni. Sinceramente non avevo dubbi che avrei ricevuto questa risposta, non avevo assolutamente dubbi. È chiaro che questa è una dichiarazione interessante che noteremo agli atti, perché quando, e speriamo più tardi possibile, questo territorio implorerà, proprio perché la politica non si è occupata di questi fatti, allora tratteremo a memoria quello che l'Assessore Galli ha dichiarato in questo Consiglio Comunale. La nostra interpellanza, non è interpellanza, di fatto è un grido di dolore di tutta la comunità, anche perché possiamo fare riferimento a fatti già accaduti nella nostra comunità. Voglio ricordare Faber, perché poi sappiamo tutti cosa succede quando ci sono le cessioni delle aziende, no? È chiaro che il meccanismo è sempre quello. Allora, le nuove proprietà garantiscono tutto per tre anni, per cinque anni, quindi garantiscono il mantenimento del management, dell'attuale occupazione. Noi vediamo nel tempo cosa succede. Succede che fondamentalmente le aziende se ne vanno, ma se ne vanno anche perché la politica non ha fatto mai nulla e non ha mai dialogato con queste persone per risolvere i problemi della nostra comunità. No, sbaglio. Una volta ci ha dialogato con queste persone quando, anni fa, mascherando la globalizzazione delle nostre aziende con l'internazionalizzazione, abbiamo dato 2 miliardi di lire a questa azienda per delocalizzare. Ecco, no? Ecco. Allora, la politica in quel caso ha parlato. Ha parlato perché ha lanciato la volata a queste aziende per portare via il lavoro ai nostri territori, no? E aprire questo fronte di crisi impressionante. In questa interpellanza noi abbiamo di fatto una sola richiesta fatto. Poteva essere un atto dimostrativo da parte della Giunta e da parte del Sindaco che oggi non è presente di andare a dialogare con la proprietà sul far rientrare il personale delocalizzato a Milano e nel nostro territorio. Già sarebbe stato un segnale importante per la nostra comunità. Però di fatto, e noi ne prendiamo atto, ne prendiamo atto, che come al solito storicamente, storicamente in questa città, in questa città, dialogo fra la politica e le aziende nel nostro territorio non c'è mai stato. Non a caso siamo venuti dal Consiglio Comunale aperto dove all'invito queste aziende non hanno risposto. E io voglio lasciare questo intervento con... L'altra sera stavo a casa e mi guardavo, mi dispiace che il Sindaco non sia qui, però mi guardavo il Sindaco quando vede Letta di Apriano a sponsorizzare la candidatura del nostro Sindaco Sagramola. Sagramola fece un intervento interessante e disse una frase interessante. Disse, la politica che costa è quella che non decide, è quella che non fa niente, che occupa le poltrone. E' passato un anno suonato un campanello. Grazie. Bene, Consiglio Arcioni, il punto numero 12 è un'interpellanza presentata sempre dal Movimento 5 Stelle, che è il relatore del Sindaco che però non è presente, quindi rimandiamo. Sei d'accordo? Bene, allora no, lo facciamo. Il Sindaco è d'accordo con l'Assessore Galli e mi risponde all'Assessore. Quindi, punto numero 12, interpellanza sui fronti stanziati per la realizzazione della Pagamontana. Presentata dal Consiglio di Acione Romagnoli, il nostro Arcioni, prego. Grazie Presidente. Allora, questa interpellanza nasce da una messina che abbiamo ricevuto da Danone Baldini, che è consigliere regionale WWF Marche, e leggo velocemente l'appello e l'interpellanza di riferimento. Si ritorna a parlare della Pagamontana Fabriano Muccia, la fantomatica strada attesa da 50 anni, che sarebbe un progetto di essere iniziata grazie a 90 milioni di euro messi a disposizione della Regione Marche, limitatamente al tratto Fabriano Materica. Ormai, da decine d'anni, pongo l'attenzione sull'opportunità stessa di costruire questa strada e sul fatto che la Pagamontana rischi di restare non compiuta, perché, per mancanza di soldi, gli altri quattro lotti non sono stati neppure finanziati. L'incognita che faccia la stessa fine ai tanti cantieri eterni delle grandi opere che costellano il nostro bel Paese è quindi molto concreta, a dimostrazione del fallimento di un modello di sviluppo basato sull'assurda pretesa di una crescita infinita e senza limiti di spazio. Oltretutto stiamo parlando di un'opera del tutto anacronistica, perché realizzata in un periodo in cui l'Italia e l'Europa stanno attraversando una crisi economica e finanziaria senza precedenti, mentre le nostre fabbriche chiudono i battenti e delocalizzano all'estero per tagliare sui costi la manodopera e sui prodotti ai lavoratori. A cosa servirà quindi spendere 90 milioni di euro per una strada ex novo quando, per i suddetti motivi, il traffico vincolare delle merci come pure quello legato al pendolarismo casa-lavoro-casa è destinato a diminuire drasticamente nei prossimi anni? Un'opera che oltretutto non porterà neppure un posto di lavoro nel nostro comprensorio, visto che le imprese e le maestranze che la realizzano proverranno a fare regione. Quale giovamento al traffico locale porterà inoltre questa normalissima strada due corsie, perché non si tratterà di una sovrastrada come pensano tutti, dove non si potrà oltrepassare il limite di 90 km orari e dove considerando le lunghe gallerie previste nel tracciato la pendenza media di oltre il 4% con punte del 7%, sarà quindi difficilissimo e molto pericoloso sorpassare i mezzi pesanti e si viaggerà con una velocità di esercizio al massimo di 60-70 km orari. Che senso ha poi costruire a meno di un chilometro di distanza l'attuale strada provinciale, un'altra strada ex novo, ma soprattutto perché non si è considerato che nella nostra vallata da oltre 100 anni esiste anche un altro mezzo di locomozione, oggi purtroppo completamente abbandonato a se stesso e quindi scarsamente utilizzato, il treno. Le tratte ferroviare Fabriano Civitanova Marche e Fabriano Pergola, se adeguatamente potenziate e convertite in metropolitane di superficie, potrebbero rappresentare infatti la vera alternativa alla pedemontana e tutto ciò con una spesa nettamente inferiore a carico dei contribuenti. Con la pedemontana invece il nostro territorio supera un'ulteriore cementificazione ambientale e sottrazione di terreno fertile adibito alle coltivazioni agricole, varificando così per sempre altre forme di possibile valorizzazione del nostro territorio, legate al settore agroalimentare e al turismo. In un momento in cui le famiglie italiane e le nostre imprese sono tartassate, come mai era accaduto nella storia del nostro Paese con una disoccupazione giovanile che ha raggiunto livelli record, dilapidare tanti soldi per questa strada rappresenta un autentico insulto ai reali problemi dei cittadini e un criminale sperpero di denaro pubblico. Come mai la Giunta Spacca riesce a reperire 90 milioni di euro per una strada che non servirà niente da nessuno se non a chi la costruisce, mentre poi è costretta per mancanza di soldi a chiudere definitivamente tanti ospedali come quello di Materica, penalizzando quindi ulteriormente il servizio sanitario nel nostro territorio? Chiedo quindi, e questo è un appello che lui fa alla nostra senatrice, di richiedere in Parlamento una commissione di inchiesta sull'effettiva autorità della Pedemontana per il nostro territorio e sull'opportunità che questi 90 milioni di euro possono essere invece spesi in funzione delle reali necessità dei cittadini, allo stesso modo di come altri suoi colleghi parlamentari del Movimento 5 Stelle stanno già facendo per la TAV Torino-Rione. Considerato che, e questa è l'interpellanza, in una fase storica come quella che stanno vivendo i nostri territori, le priorità non sono individuabili certo in strada e cemento, ma in particolar modo nel sostegno della piccola e media impresa, il vero cuore pulsante del Paese, e che sulla mobilità condividiamo l'alternativa che anche Danilo evidenzia della metropolitana di superficie, mutuando quel modello di mobilità che si è affermato nel tempo in moderne realtà europee, e cioè il tram-treno. Il progetto di tram-treno è una tipologia di trasporto originale per l'Italia, ma ben presente in Europa. La caratteristica principale è che può viaggiare sia sottracciati ferroviari che tramviari, a velocità diverso. Utilizzando i binari dedicati ai treni, come delle linee Fabriano Civita Nova Marche e Fabriano Pergola, si riducono anche gli investimenti per la realizzazione dell'infrastruttura. Ma esser allo stesso tempo tram gli consente di garantire un servizio di collegamento nei centri urbani. Tra l'altro il progetto del tram-treno, proprio perché coinvolge un bel numero di comuni, potrebbe attrarre sicuramente cospicui finanziamenti europei. Chiediamo quindi al Sindaco e alla Giunta se sia in grado di farsi portavoce della comunità in regione, in particolar modo con il Governatore Spacca, per far sì che i 90 milioni di euro vengono dirottati, in parte sul sostegno alla piccola e media impresa, e in parte su un progetto di mobilità alternativo, quello del tram-treno, sul quale investire per una mobilità dolce sempre più richiesta anche da turisti stranieri, e che proietti i nostri territori su una visione europea del trasporto nel rispetto dei paesaggi e di coloro che li abitano. Grazie. Bene consigliere Cioni. Prego, Assessore Galli. Grazie Presidente. Merito all'interpellanza, abbiamo una posizione diversa rispetto all'illustrazione fatta dal Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la Pedemontana. Noi riteniamo che sulla questione dell'impatto ambientale di questa opera si debbano guardare le questioni sotto un punto di vista diverso. Noi riteniamo che un tratto di strada come questo incompiuto da 50 anni debba invece trovare le strade migliori possibili per essere effettivamente realizzato. Ci auguriamo il prima possibile a completamento di una rete stradale regionale e interregionale che vede anche i raddoppi della Statale 76 e Statale 77 e la possibilità di collegamento dell'area montana come area Camerino-Fabbriano-Fabbriano-Pergola. Dunque per questi motivi noi riteniamo che un'opera di questo genere debba essere vista come un'opera che non ha un impatto ambientale così come sembra volersi indicare che sia invece funzionale allo sviluppo del territorio e dunque ad una mobilità comunque viaria necessaria proprio perché riteniamo che per troppi anni abbiamo perduto occasioni e capacità di collegamenti. Ma se poi vogliamo guardare a questa mobilità nell'ambito più stretto, quello di Fabriano, questa amministrazione ritiene nell'ambito anche di quel discorso che abbiamo avviato sulla viabilità e sulla mobilità più ampia che la Pedemontana sia utile a risolvere alcune problematiche legate più strettamente al territorio di Fabriano. Il PUM, il Piano Urbano della Mobilità, già prevede e qui cito velocemente il riferimento a pagina 221 ma prevedere non vuol dire obbligatoriamente ma condividiamo che la scelta di realizzare, incentivare la realizzazione della Pedemontana consenta anche di liberare la nostra viabilità dal traffico pesante in alcune zone da sempre sostanzialmente incompatibili con un determinato tipo di traffico. Non a caso nel PUM lo studio individua comunque la necessità di introdurre alcuni miglioramenti nelle connessioni tra la Pedemontana e la viabilità comunale a cominciare dallo svincolo di Fabriano Est in cui si propone di introdurre la continuità a regime tra i due lotti di Pedemontana non prevista dal progetto nell'attuale stato di avanzamento. Un ulteriore nodo da qualificare è lo svincolo di Fabriano Nord che connette la nuova infrastruttura alla strada per Collegiglioni in questo nodo converge anche la nuova viabilità di collegamento diretto con Marischio, Gronda Nord pertanto il PUM mira di individuare una soluzione che garantisca una connessione agevole da ciascuna direttrice Fabriano, Marischio, Collegiglioni a regime questo svincolo risulterà fortemente interessato dai flussi diretti dalla Pedemontana verso Marischio e verso la zona industriale Fornaci consentendo l'alleggerimento sia della Gronda Nord sia dell'itinerario Via Dante, Giuseppe di Vittorio, Grandi, Ponte del Maio per citare un esempio di una insufficienza o inadatta mobilità allo stato attuale. Dunque non è tanto il fatto di destinare queste risorse a quest'opera piuttosto che ad altre cose, ci sono delle opere che riteniamo siano importanti riteniamo che questa incompiuta debba servire per quest'area montana come area di sviluppo che si debba integrare e si possa integrare con altri interventi nell'ambito di un piano di mobilità regionale e interregionale di questo abbiamo già avviato anche qui in commissione o comunque nei tavoli tecnici delle consultazioni che verranno ulteriormente portate avanti ma riteniamo che dotarci di queste infrastrutture possa dare la capacità di collegamento e prospettive anche economiche al territorio. Bene, Assessore Galli per replica Consigliere Arcioni, prego. Ma è chiaro che abbiamo una visione totalmente diversa di quelle che sono le priorità in senso generale a livello nazionale ma in particolar modo sul nostro territorio. noi nel documento non a caso parlavamo di tagli alla sanità, di tagli al sociale e poi c'è la solita litania che sentiamo a livello nazionale e anche di conseguenza a livello locale che i soldi mancano sempre i soldi mancano sempre e quindi bisogna tagliare e si taglia sulle priorità della nostra comunità quindi si taglia sulla sanità e sui servizi sociali però come a livello nazionale i soldi per chi cementifica, per chi fa strade inutili e per chi fa opere che fondamentalmente allargano il nostro tessuto urbano e quindi aumenteranno di conseguenza anche per la comunità costi relativamente alla manutenzione comunque di tutte quelle strade che andranno a interagire con queste nuove strutture viarie e quindi cosa dire noi abbiamo fondamentalmente una visione diversa e fra l'altro queste dichiarazioni dell'assessore che inizialmente all'inizio del mandato sembrava estremamente aperto a verificare soluzioni alternative anche legate alla mobilità per la nostra città diciamo questa dichiarazione dal nostro punto di vista mette una pietra tombale relativamente alla possibilità di vedere per quello che riguarda il trasporto e l'organizzazione della viabilità sul nostro territorio qualcosa di nuovo, diverso e finanziabile a livello europeo questa è la pietra tombale continuiamo a investire sulle strade io vorrei invitare l'assessore magari accompagnato anche al comandante Strippoli un giorno a fermare tutti i mezzi pesanti che transiano per le nostre zone farli fermare e guardare cosa portano oggi ormai i mezzi pesanti viaggiano mediamente con metà del carico se no con un quarto del carico perché non c'è più nulla da trasportare cioè qui è cambiata signori un'epoca prima andavamo a mille a mille non ci si può andare più e di conseguenza tutta la nostra società dovrà ridimensionarsi continuiamo a investire su cose inutili abbandoniamo quelle che sono le priorità per i cittadini e soprattutto anche dal punto di vista di aiuto a quelle che sono veramente il sistema trainante del nostro paese che è la piccola e media impresa noi pensavamo con questa proposta di trovare sinceramente una sponda però evidentemente non è così prendiamo atto che qui nella nostra regione nel nostro territorio come a livello nazionale i soldi per la lobby e il cemento per la lobby e le strade ci sono sempre per la comunità non ci sono mai grazie bene consigliere Arcioni punto 13 interpellanza sui dati dell'inquinamento da polveri sottili è stata presentata ai consiglieri Ottaviani e Solari il relatore dell'assessuale Anello illustra Ottaviani prego grazie presidente molto rapidamente l'interpellanza nasce sempre da considerazione esternata a mezzo stampa da parte dei componenti della giunta in particolar modo in questo caso per un articolo comparso nel Corriere Adriatico del 10 aprile 2013 in cui l'assessore competente all'ambiente asseriva che dopo il superamento del limite all'inizio di gennaio come ormai è da tradizione consolidata in concomitanza con i botti di Capodanno in seguito ai sforamenti riferendosi alle polveri sottili in particolar modo al PM10 e PM25 in seguito di sforamenti ce ne sono stati appena 3 inoltre rispetto a quanto si verificava in passato praticamente si sono annullati e questo lo si deve esclusivamente alle due rotatorie e proseguendo non ci aspettavamo una riduzione ai polveri sottili così consistenti parlando a nome della giunta i risultati ottenuti in questi primi 3 mesi dell'anno sono così straordinari che rappresentano una sorpresa anche per noi sulla base di questo alcuni del gruppo che seguono e monitorano questi dati almeno per quelli disponibili al comune cittadino sono rimasti colpiti al fatto che l'ARPAM abbia nel suo sito un avviso di impossibilità di validazione dei dati per la variazione della norma e che quelli presenti nel sito della provincia nella centralina di riferimento a Fabriano si estinguano il 5 mi sembra di febbraio o il 6 di febbraio sicuramente le considerazioni fatte dall'amministrazione ovviamente vertiranno su dati di monitoraggio più specifici avuti dalla provincia o dall'ARPAM e per questa ragione noi volevamo essere messi a conoscenza sulla base di quali siano le fonti dati appunto che l'amministrazione ha per l'inquinamento sulle quali sono basate le deduzioni dell'amministrazione e i metodi di validazione dei dati in suo possesso di essere anche portati a conoscenza e l'analitico quindi se per cortesia ci può essere fatta una copia cartacea ovviamente non certo le enunciazioni per disse qua dei valori registrati nel periodo di riferimento dell'amministrazione cioè dal 1 gennaio al 31 marzo 2013 e di conoscere inoltre vista la considerazione se non è un refuso di stampa dell'attribuzione dell'abbattimento delle polveri sottili esclusivamente al miglioramento del traffico che in realtà si è realizzato grazie alla costruzione delle due rotatorie quali siano le evidenze che attribuiscono all'abbassamento del PM10 esclusivamente appunto al snellimento, alla fluidità del traffico ho concluso qui, grazie Bene, consiglio Ottaviani prego, assessore Alianello Grazie Allora, preliminarmente devo dire che questo articolo è venuto fuori non da un comunicato stampa del sottoscritto o dell'ufficio o di qualcuno alla giunta ma da una telefonata che il giornalista mi ha fatto comunque i dati che mi si chiedono sono dati dell'Arfam io ho la copia cartacea che posso fornire sin da subito che ho i dati al 31 marzo 2013 ma l'ho ancora più freschi perché stamane mi hanno nuovamente risposto a una mia sollecitazione vado a leggere la mail che mi è arrivata dal 1 gennaio al 15 maggio sono stati rilevati 5 superamenti del PM10 il limite previsto dalla normativa è di 50 microgrammi su metro cubo da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno la media del periodo è stata 28,8 microgrammi su metro cubo il limite è di 40 microgrammi su metro cubo su base annuale per quanto riguarda il PM2,5 la media è stata di 17,9 il cui limite è di 25 sempre su base annuale perché i dati presenti sul sito e la provincia si fermano al 5 febbraio e all'epoca quando mi telefonò il giornalista erano ancora più indietro perché si sta procedendo alla riorganizzazione di tutta la rete di monitoraggio cioè dalla regione Marche è stata affidata all'ARPAM quindi l'ARPAM la regione Marche non sta aggiornando con velocità sufficientemente sufficiente da poter farne un'analisi in brevi giorni ma l'ARPAM a sua volta invece fa comunicati con velocità accettabile per andare nello specifico e quindi per poter andare anche a giustificare in qualche modo quello che io dissi al giornalista che poi chiaramente venne condito anche con esclusivamente o quant'altro i discorsi erano fino ad oggi ci sono stati tre sforamenti ma io avevo i dati non rilevabili fino a neanche tutto il mese di gennaio perché io dissi che probabilmente le rotatorie erano state decisive? perché invece avevo i dati completi degli anni 2012, 2011 e 2010 se noi prendiamo i periodi di riferimento il primo periodo di riferimento è a seguito della realizzazione delle rotatorie ossia da settembre a dicembre 2012 si sono verificati tre sforamenti uno nel mese di ottobre e due nel mese di dicembre se prendiamo il relativo periodo dell'anno 2011 possiamo vedere che a settembre sono stati quattro sforamenti tre a ottobre, dodici a novembre e cinque a dicembre quindi per un totale di 12 e dodici 24 sforamenti se andiamo ancora più dietro vediamo che ce ne sono stati sette se poi invece andiamo a prendere i periodi di riferimento dei primi tre mesi del 2013 quando si sono verificati in tutto cinque sforamenti nell'anno 2012 ne abbiamo avuti 21 nell'anno 2011 24 quindi siccome la differenza fra il 2010 e 2011 non è così consistente come quella che invece dopo l'edificazione delle rotatorie io ho detto che probabilmente le rotatorie dando più fluidità al traffico hanno consentito a un abbattimento consistente delle polveri sottili e effettivamente stamattina la mail dell'ARPAM mi convalida questa mia presupposizione Bene Assessore Alianello, prego consigliere Ottaviani Chiedo scusa al Presidente ma io non sono riuscito a capire una cosa quando erano state fatte queste considerazioni i dati in possesso dell'amministrazione comunale gli facevano riferimento fino al 31.03.2013? No? No, assolutamente Quindi il Comune aveva a disposizione esclusivamente dati riferiti a gennaio e fino al 5 febbraio Nemmeno In teoria questi erano presenti sul sito al livello del 10 aprile 2013 i dati disponibili almeno sul sito della provincia erano fino al 5 febbraio Rispetto ai dati in possesso dell'anno precedente dal 1 gennaio al 5 febbraio quest'anno si è realizzato uno sforamento in più Quindi trovo difficile Di più a cosa? Di più rispetto all'anno scorso Se io confronto i dati disponibili in quell'occasione che erano fino al 5 febbraio dal 1 gennaio al 5 febbraio e li confronto con l'anno precedente io quest'anno ho uno sforamento in più rispetto all'anno precedente No, non è giusto, nel mese di gennaio ce n'è 4 in più Io ho 5 sforamenti in totale, no? Di cui 2 lasciate botti, eccetera, eccetera Nell'anno precedente avevo uno sforamento in meno, se non sbaglio, nel 2012 fino al 5 febbraio, attenzione, i dati disponibili Quindi la costruzione del riferimento del trimestre non è assolutamente corretta perché il trimestre noi avevamo disponibili meno della metà dei dati Allora, io torno a ripetere la comunicazione è una cosa importante mi rendo conto che forse ha ragione il sindaco a volere un comunicatore fra il suo staff però, io torno a ripetere per cercare, perché questa poi non l'ho neanche presa io in considerazione me l'hanno fatto presente altri colleghi siamo andati in comune a chiedere quali fossero i dati disponibili e la Carini ha risposto al mio collega Solari che erano quelli sul sito della provincia Allora, certe cose non si dicono primo, per una ragione di questione tanto più se è l'ufficio ambiente perché uno, l'evidenza, sono d'accordo con lei e lo scrivo sulla cosa, sull'interpellanza noi abbiamo un miglioramento netto del traffico dopo il micro-mini rotatore come lo vogliamo chiamare io sono d'accordo e do un plauso per la costruzione alle stesse però rimaniamo ragazzi con le prove di evidenza scientifica in mano uno, fare un confronto di questo genere significa essere andati a valutare se non altro i millimetri di pioggia caduti o le nevicate perché sappiamo che quando piove o nevica il PM scompare secondo, non abbiamo quei dati a disposizione perché ci confrontiamo con altri precedenti non ci sono i requisiti minimi per fare un'analisi e inoltre nei dati a disposizione abbiamo uno sforamento in più rispetto all'anno precedente ribaltando completamente il dato io spero che, adesso non so, mi dicevano i colleghi del Movimento 5 Stelle che forse la centralina, l'ARPAM la vorrà mettere in via Fagioli lì staremo più tranquilli probabilmente avremo un migliore rilievo delle medie giornaliere però io invito nuovamente la giunta l'ho detto in termini di bilancio l'ho ripetuto prima sull'interpellanza di Belvedere lo ripeto adesso su questa dell'epode state zitti punto lavorate ma state zitti perché io sono il solito, antipatico, presuntuoso quello che volete datemi tutti gli epiteti non ho problemi, l'importante è che non siano epitaffi però ragazzi questa è comunicazione di un'amministrazione pubblica e anche la prossima interpellanza riguarda sempre questo problema voi avete un grosso problema dentro il Comune in primis ve l'ho detto al bilancio e faccio l'azione politica esclusivamente poi non mi interessa se sono cinque o sei esforamenti in primis la relazione fra i soggetti all'interno del Comune all'interno della tecnostruttura fra ufficio ed ufficio due il problema interno fra politica che deve controllare e uffici terzo all'interno della stessa politica e se questo è il clima il Comune scoppia e scoppia presto e allora abbassiamo i toni lasciamo i plausi le auto in celebrazione eccetera lasciamole da parte se poi questo non fosse stato esclusivamente oggetto dell'assessore ma addirittura un comunicato del genere proveniente all'ufficio ambiente cosa che non penso sia stato sarebbe molto più grave ma non penso proprio che sia l'ufficio ambiente aver fatto queste considerazioni perché mettiamo in discussione proprio la presenza di determinate persone all'interno io chiudo qui Presidente perché mi fermo per non rubare spazio ulteriore Bene Consiglio Ottaviani punto numero 14 all'ordine del giorno interpellanza in ordine alla delibera di giunta comunale numero 47 del 28 marzo 2013 che ha come oggetto 9 atti di indirizzo relativo all'assistenza a bordo e al trasporto scolastico anziani e disabili è stata presentata al Consiglio Ottaviani il relatore e l'assessore Galli Prego il Consiglio Ottaviani Sì grazie Presidente io avevo chiesto in realtà la risposta del Sindaco che avevo sottolineato interpello il Sindaco però se non ci capisco più niente con i relatori sinceramente Comunque vengo al saluto la delibera in una oggetto è la delibera giunta numero 47 del 28 marzo 2013 avendo oggetto 1 4 indirizzo relativo all'assistenza a bordo e trasporto scolastico anziani e disabili in questa si viene ad annullare una precedente deliberazione nella 252 del 1812 2012 ora che cosa diceva questa 252 diceva signori siccome siamo in ottica di spending review e vi ricordate le leggi nazionali eccetera eccetera anche in serie di discussioni bilanci previsioni e tutto il resto ci avevano detto i nuovi appalti porteranno e determineranno un risparmio del 5% a rinnovo quindi ogni servizio appaltato anche gli stessi servizi pubblici essenziali dovevano o comunque questa era stata l'impostazione dovevano subire un abbattimento del 5% su base anna la 252 diceva prendere in considerazione in maniera specifica esclusivamente proprio l'assistenza a bordo del trasporto scolastico anziani e disabili e prevedeva tre situazioni uno il rinnovo del contratto doveva prevedere comunque l'esternalizzazione vada a memoria due un abbattimento del 5% sul precedente canone concordato o importo complessivo della se era una concessione se era un contratto un appalto eccetera e in terzo luogo la durata triennale ed andava questa delibera sicuramente ricalcava quelle che erano state le esternazioni anche dell'assessore alle finanze quando si doveva parlare della spending review ora in questa delibera e io sono il solito antipatico quello che volete però a me ha colpito la stasura proprio in italiano allora innanzitutto su questa delibera che cosa si dice la ditta che aveva in precedenza la gestione siccome sta per scadere l'appalto manda una missiva una lettera al comune e dice signori siccome è previsto ovviamente nel capitolato questo è giusto allora rinnovateci l'appalto alle stesse condizioni aumentando anzi l'adeguamento istat previsto e ce l'ho fatta per un anno e poi nasce questa è la costruzione letterale semantica che dovrebbe essere analizzata ma dice testualmente osservato che l'amministrazione nella persona del sindaco ha informalmente manifestato il proprio orientamento rispetto a quanto deciso nella delibera giudente a rivedere la questione nel senso di dare corso all'istanza presentata dalla ditta Castavecchio rimandando comunque a decisione definitiva la complessiva valutazione della parte della giunta io l'ho letto forse stupisce solo me questo ma venendo a mancare l'esplicitazione di attendibili motivazioni inducenti la scelta operata nella delibera giunta 47 e ritenendo che d'altra parte il contratto degli appalti riservi sì la facoltà all'amministrazione per motivate necessità proprie di rilevare la convenzione ma sicuramente non lo riserva per una mera richiesta da parte di chi ha in appalto la struttura perché a questo punto ovviamente viene ribaltato il senso di tutela dell'amministrazione stessa ci ha promesso stiamo a chiedere quali siano le modalità informali con il quale il sindaco abbia suggerito il ricorso al rinnovo della concessione in oggetto due quali siano le motivazioni formali che suggeriscono il ricorso al rinnovo senza gara della convenzione originaria 3 perché sia stato de fatto cancellato l'abbattimento previsto dalla precedente delibera del 5% al momento del rinnovo 4 se l'esposizione economica del nuovo contratto dovrebbe essere accumulata all'analoga del contratto iniziale in termini 5 se questo nuovo orientamento in termini economici verrà applicato a tutte le convenzioni degli appalti di servizi in atto ovvero riservata alla sola vita a Castelvecchio infine stiamo a chiedere se nell'ambito dei processi e delle procedure comunali di cui avete parlato nel bilancio nel vostro programma implementato dalla nuova amministrazione il processo dimensionale nella costruzione dei servizi per la comunità si difende su strategie serie univoche e pianificate ed uniformi ovvero su domande e sollecitazioni di singoli proponenti o su informali comunicazioni poste a sostanza delle deliberazioni all'ordine esecutivo grazie presidente consigliere ottaviani grazie consigliere ottaviani vado ad illustrare a riscontrare non ad illustrare l'interpellanza da lei sottoposta alla nostra attenzione sarà un misto tra intervento politico e una parte tecnica facendo una ricostruzione meno semantica e più concreta perché vorrei che poi passi l'aspetto della concretezza e possano essere prese delle informazioni utili da parte dei cittadini che comunque ringrazio il consigliere ottaviani ci consente in questo modo di poter rendere note la delibera non la devo difendere da un punto di vista tecnico la difendo da un punto di vista politico fermo restando che gli uffici hanno compiuto i passaggi e mi hanno reso edotto dei passaggi medesimi ma il metodo se c'è un metodo ad personam o ad soggetto o se c'è un metodo generale noi abbiamo impostato con serietà con determinazione poi i risultati li andremo a analizzare non deve essere un plauso nostro dire li abbiamo ottenuti sono grandiosi o meno ma sicuramente l'obiettivo è quello di riorganizzare determinati servizi e ottenere delle economie funzionali non economie punto economie funzionali che vuol dire che se ci sono margini che garantiscono il servizio e consentono economie una buona amministrazione opera con questa metodologia e allora consigliere io ho analizzato dati questo è l'aspetto politico meno tecnico e parliamo dell'assistente a bordo nel 2011 l'importo totale che l'amministrazione praticamente ha speso a fronte del contratto era di 261 mila euro non sto qui a dire 261 mila sei e 40 virgola cinquantanove ma il dato del 2012 duecento diciotto mila cinque settantuno zero due io non sono d'accordo anche aggancio la parte politica alla parte tecnica è uniforme il metodo della dell'adeguamento dei servizi della riorganizzazione e pertanto di individuare quelle che possono essere le economie le percentuali che si possono ottenere sono come dire variabili poi può essere una linea di indirizzo fissare l'obiettivo al 5% ma poi può essere ottenuto un obiettivo maggiore oppure magari se non si può comprimere quel servizio non è detto che si vada a comprimere con il 5% se poi il servizio ne dovesse risentire in modo particolare il 2.11 raffrontato al 2.12 evidenzia e questo è un dato che voglio trattare da un punto di vista non semantico né soggettivo ma nudo oggettivo questo servizio ha avuto una riduzione del ben del 17% tra 2011 e 2012 altro che spending review dovremmo pertanto prestare attenzione sempre nel proseguo della riorganizzazione se ancora potremmo comprimere se ci sono margini ulteriori il dato del 2013 evidenzia in ogni caso un'ulteriore riduzione sul 2012 che non raggiunge il 5% perché la matematica poi non è un'opinione ma sfiora attualmente il 3% ma che nell'ambito della riorganizzazione riteniamo potrà attestarsi intorno a quell'obiettivo del 5% a prescindere dal dato tecnico della normativa ma bensì come dato di amministrazione in senso stretto questa percentuale del 2013 intorno al 3% di riduzione conseguente ad un servizio straordinario che abbiamo avuto per tre mesi gennaio febbraio e marzo per servire praticamente la zona di Serra San Quirico ovvero tutte le frazioni praticamente di San Giovanni Sant'Elia ed altre altrimenti avremmo avuto una media intorno al 6% ciò detto vado a riscontrare le singole richieste quali siano le modalità informali con le quali il sindaco abbia suggerito il ricorso al rinnovo della concessione in oggetto io non sono d'accordo che la delibera venga letta sotto l'aspetto malizioso ma se la vogliamo leggere sotto questo aspetto mi sta bene ma non sono d'accordo io credo che se il sindaco avesse informalmente dato un suo orientamento su una questione come questa sottoponendo poi la decisione alla giunta così come è stato io sinceramente mi preoccuperei del contrario cioè di un sindaco che non prende posizione che non dà un'indicazione che non la sottopone alla giunta e di cui non si dovesse discutere e pertanto io sono fortemente convinto che l'averlo scritto nella delibera per qualcuno può sembrare ingenuità io invece la ritengo trasparenza mentre qualcuno che è malizioso la ritiene diversamente una ingenuità o forse peggio altre cose ma questo è un modo di ragionare io ragiono in questo modo per cui ho letto quella delibera non ci ho visto nulla di strano anzi percorso trasparente e coerente quali sono le motivazioni formali che suggeriscono il ricorso al rimuovo senza gara qui invece devo dire che difendo meno l'atto e dunque rispondo più sul piano politico le motivazioni sono politiche la scelta qui di rinviare la gara e di prendere a riferimento la possibilità che era offerta da quel contratto dall'articolo 3,4 del vigente capitolato nasce da una scelta politica di rinviare il rinnovo della gara per valutare la destinazione futura del servizio trasporto scolastico in senso più ampio dato che siamo in una fase di riorganizzazione che sta evidenziando determinati dati alcuni positivi altri anche negativi credo che la decisione della giunta anzi la decisione della giunta è stata quella di essere libera per un anno poi di decidere facendo tutte le valutazioni economiche se questo servizio sarà mantenuto come servizio diretto del comune ovvero eventualmente affidato in gara ed esternalizzato per intero per cui questo è il ragionamento perché sia stato de fatto cancellato l'abbattimento previsto della 252 del 5 perché dico al consigliere ottaviani che se leggerà attentamente la 252 troverà nella 252 un passaggio in cui il 5% può essere determinato con orientamento specifico dalla rimodulazione del servizio e non dall'abbattimento della tariffa oraria del costo lavoro perché l'abbattimento della tariffa oraria secondo il nostro parere qui è più e più la parte tecnica non si può fare mentre la rimodulazione del servizio si può fare e questo ha portato a quel dico io 17% che è un numero importante senza proclami se l'esposizione economica del nuovo contratto deve essere accumulata all'analoga del contratto iniziale in termini soglia comunitaria noi abbiamo fatto una scelta politica la scelta politica di attenzione alla gestione ai costi al servizio di scelta ponderata per un anno di valutazione di quello che sarà la decisione prossima dell'amministrazione che per il momento non è stata assunta stiamo monitorando i dati ma abbiamo chiesto all'ufficio gare di esprimere un parere che chiaramente è stato praticamente assunto e se il consigliere Ottaviani lo vorrà andare a consultare lo trova con il protocollo 14.983 del 19 marzo 2012 comunque anche questo aspetto tecnico è stato oggetto di attenzione se questo nuovo orientamento in termini economici verrà applicato a tutte le convenzioni e gli appalti dei servizi in atto ovvero riservato solo alla ditta Castelvecchio questa modalità operativa per quanto riguarda l'intera giunta è riservata a tutti i servizi quando ripeto deve essere attenzionato il rapporto tra il servizio e il costo del servizio operando con attenzione dove si possono fare le riduzioni è chiaro che stiamo operando un'attività di riduzione di attenzione se nell'ambito dei processi delle procedure comunali implementate dalla nuova amministrazione il processo decisionale nella costruzione dei servizi per la comunità si fondi sulle strategie di pianificazioni univoche ed uniformi ovvero su domande e sollecitazioni dei singoli proponenti su informali comunicazioni poste a sostanza delle deliberazioni dell'organo esecutivo qui c'è stata una scelta politica scelta chiara scelta oggi ribadita e non certo percorsi che hanno atteso a comunicazioni informali o a sollecitazioni d'altronde probabilmente la sollecitazione sarebbe dovuta essere diversa visto la riduzione operata nel raffronto annuale a dato crudo oggettivo del 2-12-2-11 anche sulla delibera e qui è una chiusura di carattere tecnico vorrei ricordare questo con gli uffici mi sono premurato di guardarlo o poi se sbaglio questa è la mia valutazione politica e amministrativa su quello che è la valenza del decreto legge 95-2012 articolo 15 comma 13 lettera A allora questo è un decreto che stabilisce l'obbligo della riduzione to cure no questa è l'interpretazione perché perché il decreto fa riferimento ad aziende ed enti del servizio sanitario nazionale bene io perseguo la strada la giunta persegue la strada dell'obbiettivo della riduzione e quello può essere il criterio non è carico di riferimento ma non per forza la norma da applicare perché non è questa la norma da applicare bensì vorrei ricordare ma questo lo abbiamo deciso ancora prima dell'introduzione di questo decreto del ministero del lavoro delle politiche sociali che però a posteriori rafforza il ragionamento il 10 aprile del 2013 il ministero del lavoro delle politiche sociali ha rivisto in aumento il costo orario del lavoro delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale ed educativo dunque vuol dire che il ragionamento politico e su questo l'impianto amministrativo tecnico è stato corretto non incidiamo sull'appalto dicendo ok 5% in meno punto fine no dobbiamo intervenire se vogliamo fare delle economie sulla modalità del servizio e se vogliamo prendere a riferimento il 5% del decreto legge questo è un altro discorso come ho detto il 2011 il 2012 ha superato ampiamente ha triplicato quel 5% manteniamo l'obiettivo per il 2013 per stare intorno al 5% purché siano rispettati i rapporti di qualità del servizio di esigenza reale del servizio e si arrivi a quello che è comprimibile e non quello che è incomprimibile Bene Assessore Galli per replica il consigliere Ottaviani prego Io ringrazio l'assessore Galli perché riuscito con l'arzo oratorio a dare una forse escusate un'ampetita perché non era un'accusa la mia la mia era una valutazione oggettiva dell'atto tant'è vede io assolutamente con questa interpellanza non sindaco il dirigente che ha redatto l'atto anche perché vede a un certo momento di questa deliberazione il dirigente dell'ufficio specifico sembra che si siano opposti a fare questa a prendere atto di questa nuova volontà informale del sindaco e su quella delibera 47 c'è scritto che hanno sollevato un'abiezione perché l'atto vigente era la delibera 252 quindi è un po' travagliato questo dato così come io sono contentissimo che lei parla di riduzione anche attraverso la rimodulazione dei servizi ma ricordo pure che sul bilancio di previsione l'assistenza ai trasporti era scomparsa o almeno aveva un abbattimento di cento e passa mila euro e trovo difficile rimodulare il servizio abbattendo cento mila euro di costi di spese in questo caso quindi lei ha argomentato bene però alla fine stringendo richiamando quel concetto e principio di concretezza con cui lei ha eservito a me rimane il dato inequivocabile come una pietra tombale della delibera in cui l'amministrazione è così attenta come dice lei alla rimodulazione peraltro rimodulazione del servizio che non ha preannunciato nella delibera perché altrimenti me l'avrebbe motivato noi ridiamo lo stesso ma siccome rimoduleremo il servizio in attesa della futura esternalizzazione completa la delibera parte da dei presupposti delle necessità oggettive le necessità oggettive del presupposto era che il dirigente che aveva ricevuto questa informale comunicazione dice no signori io non faccio niente perché c'è la delibera di dicembre che dice che bisogna fare un nuovo contratto allora allora ci si ritorna e si dà all'annullamento di quella delibera avete annullato una delibera di tre mesi prima e perché tre mesi prima non avevate già impostato il vostro bilancio di previsione con le vostre scelte politiche di pianificazione e strategia che già vedevano l'esternalizzazione del servizio tre mesi prima quello che ha detto lei era già valido all'inizio quando avete erogato il bilancio di previsione e non giustifica il passaggio fra dicembre 2012 e marzo 2013 in più io capisco che la semantica è qualcosa ormai di abbandonato ma avvocato lei nel foro alla semantica dà un significato particolare se io parto dal presupposto atteso che l'amministrazione ha informalmente manifestato significa che ha incontrato il sindaco per strada o dentro il comune e il sindaco ha detto siccome sta a scadere ci ha mandato la lettera che rifanno il servizio vedi un po' di rinnovarlo per un anno e prendiamo tempo per me in termini banali significa questo ma è una mia interpretazione soggettiva che nulla a che fare con la rispondenza della realtà ma scrivendo che l'amministrazione il sindaco ha informalmente perché i canali informali quali sono? non c'è niente di scritto della giunta certo il sindaco rimanda alla giunta ma è la giunta che aveva approvato tre mesi prima quello che lei la delibera 252 in cui tutti i ragionamenti che lei ha fatto dovevano essere già provenienti se non su che cosa avete costruito il bilancio e previsione non solo non solo ma voi avevate già a disposizione i costi che erano stati abbattuti da 261 al 218 mila e a dicembre ce l'avevate e allora tutta questa argomentazione in realtà accade nella cronologia degli atti e nelle parole con cui sono scritte la realtà di fatto è che abbiamo io non ho nulla attenzione né contro la cooperativa né contro l'amministrazione né contro il dirigente prendo atto che ci avete chiesto sacrifici ci avete fatto quello ci avete imbastito un bilancio blindato qualsiasi proposta della minoranza era inaccettabile poi sappiamo che abbiamo 65 mila euro da riscuotere dalla piscina che non riscuotiamo e che troviamo un modo di bloccare i disabili invece di iniziare a fare le azioni che giustificano anche l'impegno l'iscrizione a bilancio se deriva dal 2008 fra i residui perché allora mancano anche i documenti che legittimano se non faccio un'iscrizione a reale o qualcosa come ricevo il residuo secondo che la decisione di proseguire o meno un contratto è riservata alla informalità del volere del sindaco e io sono sicuro che il sindaco non c'entra neanche nulla su questo non sto colpando il sindaco e poi questa passa in giunta giunta viene approvata all'unanimità da tutti e oggi sappiamo che queste sono le nuove aspettative nuovo modo di ragionare abbiamo cambiato completamente la strategia del comune da dicembre a marzo tutti i discorsi fatti sul bilancio non sono reali tutto quello che ci avete detto della crema della crema delle aspettative della nostra azione non le dobbiamo ritenere valide perché fra tre mesi potrebbero cambiare le esigenze per cui formalmente determino che riapra l'asilo nido pinco pallino e ciò che ho fatto in realtà non va ad essere ad essere ad essere valido quindi la ringrazio nuovamente Gallo ho sottratto ulteriormente il tempo ma le ricordo da dicendo 2012 a marzo 2013 tutto quello che ha detto lei non è avvenuto la vostra scelta era precisa in precedenza qui si tratta secondo me di una costruzione una delibera che la giunta probabilmente quando l'ha approvata non ha neanche detto diciamocelo chiaro per come faccio una ricostruzione seppur arbitrare fantasiosa e che ovviamente il canale perché quello che rimane grave è che lei io sono d'accordo con lei però se la ditta Castelvecchio manda una lettera e sulla base di quella lettera il sindaco dice sì visto che ci hanno mandato la lettera rinnoviamo siamo lontani anni luce da quello che avete scritto sul programma e se così non fosse perché sono certo che non sarà così quindi questo è ciò che esiste a livello di delibera e sulla delibera la giunta all'unanimità tutti avete approvato quest'atto quindi sovvertendo completamente probabilmente quella che è la realtà ma questo è ciò che passa al pubblico esterno alla partecipazione perché questi ci hanno mandato la lettera noi rinnoviamo e non era ancora scaduto l'appalto attenzione non era ancora scaduto l'appalto e questo è la sostanza ancora di più quello che sto dicendo perché nel caso di necessità l'amministrazione ricorre alla scadenza in modo da l'appalto ci siamo scordati che ci avevamo l'appalto e allora rimuoviamo grazie bene consigliere Ottaviani sono le 20.15 abbiamo esaurito le nuove ore destinate alle interpellanze e alle interrogazioni passiamo agli argomenti urgenti punto numero 17 rideterminazione dell'importo al gettore di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale vi mostra l'assessore Timi prego grazie presidente io penso che questo atto che la giunta sottopone al consiglio è derivante da un atto precedente del consiglio stesso pertanto ritengo che noi abbiamo provato in questo in questa sede in ordine del giorno che andava in questo senso io aggiungo poche altre cose nel senso che in questi giorni stiamo facendo ormai arrivati quasi a buon punto stiamo facendo anche un po' le proiezioni per costruire il bilancio 2013 proiezioni per quanto riguarda anche gli impatti economici che ci sono sugli atti che stiamo producendo io non entro nel meglio se è giusto non è giusto 32, 40, 50, 20 è una decisione già fatta la giunta perciò in maniera obbligatoria doveva portare questo dato dico che la decorenza non può essere altro che il primo gennaio 2013 come tutto ciò che riguarda tariffe compensi o quant'altro perché il bilancio è annuale ossia nel senso che modifica anche nei mesi precedenti se vi ricordate quando si parlava di questo argomento in maniera molto diffusa anche durante l'esercizio più volte anche il sottoscritto ma anche il sindaco abbiamo ripetito che queste modifiche vanno fatte in sede di bilancio perché noi quando andiamo a fare le tariffe per le menze e per quant'altro facciamo il bilancio a giugno ma la decorenza è sempre il primo gennaio per tutto ciò che ha questo impatto anche perché poi bisogna costruire un bilancio che abbia una valenza annuale allora io porto a corso come la notizia che il mio mai grado l'ho avuto perché ieri sera sono riuscito a capirci qualcosa che questo lo dico ma non è per fare un'informazione che penso che poi i costi della politica sono questi sono questi io ve lo dico in anteprima ossia che nonostante che questo consiglio la giunta tutti abbiamo collaborato per contenere per ridurre la spesa per gli organi istituzionali del comune io con mio rammarico che sto accorgendo che nonostante un abbattimento diciamo più della metà dei vari compensi con la questione che abbiamo fatto delle commissioni elefantiate 13-14 persone questa non è una polemica si è chiaro un'informazione i costi alla fine della festa nonostante la riduzione del giudice io parlo soltanto di gettoni commissioni consiglio non parlo abbiamo dei benefici sicuramente sul discorso di rimborso io parlo quanto riguarda gli organi istituzionali gettoni noi nel 2013 secondo una proiezione fatta faremo dei costi superiori al 2012 e questo all'inizio mi sembrava che c'era un sbaglio pensavo ma invece non è così io anzi faccio una raccomandazione presidente delle commissioni di accorpare più argomenti facciamo le commissioni un pochettino più lungo magari non ho di un'ora o di mezz'ora perché essendo un numero essendo un numero corposo ma io dico il giustamento perché io non metto in discussione se è giusto 14 persone 13 8 o 5 però siamo passati da commissioni 5 commissioni da 5 siamo passati ecco da 7 da 5 siamo passati a a 3 da 13 o se non 14 e chiaramente fate moltiplicare 14 per 32 vedete quello che succede giusto? a questo lo dico io penso che questo atto ci sia poco da dire nel senso che è un atto ribadisco conseguente a una decisione del Consiglio Comunale mi fermo qui allora iscritti a parlare consigliere Rossi prego la mia è solo una domanda noi quando avevamo parlato con il sindaco il sindaco ci aveva detto che non ci sarebbe stata retroattività dal primo gennaio se si consiglia c'è una retroattività non posso? prego se ce lo dico io adesso tu hai parlato con il sindaco il sindaco non mi ha detto niente non vorrei dire però la sentenza ossia lei allora non mi sono spiegato io se Rossi tu ormai sei mi pare che 5 sti anni che stai in Consiglio Comunale se non guardate errato allora tu ti ricorderai anche in passato quando si parla di tariffe di compensi c'è una regola generale che si tratta in serie di bilancio da sempre noi molte volte quando durante i vari esercizi anche con le precedenti giunte no? se stanno i tentativi di modifica e quant'altro io mi apposi questa questione stavo da là ma la apposi perché penso che sia tutto se noi è vero che i bilanci di previsione si dovrebbero fare a novembre se non a settembre dell'anno prima noi invece li facciamo a giugno se no bene dell'anno dopo però in questo momento in questo momento noi facciamo un atto consigliare con la quale la decorrente non può essere altro che il primo gennaio come tutte le altre tariffe come tutte le altre tariffe che abbiamo perciò non c'è niente di trascendentale io io penso perché in realtà il Consiglio è sovrano però mi sembra che sia una logica sia anche una mi sembra che sia anche una buona regola no non è normale sul testo il Consiglio Comunale è sovrano però chiaramente il gettore di presenza siccome è un costo da prevedere nei bilanci di previsione va diciamo determinato le modifiche vanno determinati in sé per la valenza che c'è il bilancio di previsione non è uguale però io ho fatto l'esempio per far capire non è che dico che la tariffa o l'imposta è uguale al gettone però funziona dovrebbe funzionare con lo stesso meccanismo non so se è stato chiaro anche per avere una programmazione economica in sé del bilancio certa questo lo dico anche perché poi mi sembra che lo stesso del giorno se non ho letto male questa velina c'è riportato l'anno 2013 forse non c'era stato scritto il primo gennaio però l'anno 2013 normalmente in termini finanziari quando si parla di anno 2013 si intende l'intero esercizio finanziario questo è una regola di carattere generale prego consigliere grazie presidente vice sindaco il ragionamento che ha fatto non fa una piega se non fosse per un piccolo particolare che credo possano ricordare anche i colleghi di maggioranza che allora qui bisogna capire se il sindaco è impreparato il sindaco quando abbiamo discusso e ripeto io non le faccio una questione di soldi eccolo qua ecco ecco prego così ne parliamo no io io vorrei io vorrei capire perché tanto ben arrivato al sindaco il sindaco se era impegnato se era impegnato a non introdurre la retroattività relativamente alla diminuzione del gettore in presenza qui non si tratta di un ragionamento di soldi qui si tratta di capire se quando uno parla c'è un senso una valenza oppure no io mi ricordo chiaramente che quando abbiamo parlato in quell'occasione in quel consiglio comunale il sindaco aveva chiesto al consiglio se avessimo dovuto applicare la retroattività o meno e il sindaco aveva convenuto che la retroattività non venisse applicata quindi ecco quindi io vorrei capire effettivamente perché se no se le cose stanno così dal mio punto di vista non facciamo più consigli comunali perché se se non vale più neanche un discorso e ripeto non ne faccio un discorso di soldi ma ne faccio un discorso perché uno dice la cosa in consiglio comunale la decidiamo insieme anche quella maggioranza fra l'altro che devo ricordare e poi ci ritroviamo delle delibere no e che parlano di tutt'altra cosa ecco io ripeto non ne faccio una questione economica ma ne faccio una questione di verificare se effettivamente quello che si dice in consiglio comunale ha un senso oppure andiamo tutti quanti a fare l'altro mestiere grazie grazie consiglio Arcioni sindaco io ho altri iscritti a parlare facciamo parlare prima gli iscritti per rispondere prego consiglio consiglio Rottogliani io per dire due cose sono perfettamente d'accordo sull'atto però ne riaggancio al discorso tecnico di Angelo dell'assessore alle finanze quello che dice l'assessore è vero pregherei quello che dice Angelo l'assessore alle finanze dell'applicabilità a partire dall'anno è assolutamente sacrosanto è vero ci sono due problemi però allora è altrettanto vero tecnicamente che voi qui come avevo fatto io sull'ordine del giorno che mi è stato bocciato sulla mozione che chiedeva la stessa cosa avreste dovuto per correttezza indicare la conferma dell'indennità del Presidente del Consiglio Comunale perché non basta la delibera di giunta tecnicamente perché l'indennità del Presidente è un atto che deve essere ratificato dal Consiglio Comunale e quindi tecnicamente rimanda all'ottente alcune considerazioni tant'è che nella mozione che avevo fatto io c'era espresso il Consiglio Angelo all'inizio o in occasione di lancio fa due cose determina l'indennità se esiste o il gettone di presenza dei consiglieri comunali per l'anno in corso o due determina anche l'indennità del Presidente del Consiglio Comunale cioè accorda se la percentuale del 45% previsto dal decreto ministeriale dal 119-2000 sia da confermare o meno perché nulla toglie che una riduzione del percepito del gettone dei consiglieri si traduca anche come una riduzione dell'indennità del Presidente del Consiglio quindi tecnicamente per completezza visto che abbiamo parlato di ciò doveva essere ratificato questo perché nessuno l'ha ratificata e se la dovessimo con una mozione qualunque andare ad applicare fra due anni vi correrebbe dal momento della nomina tecnicamente a questo punto dalla nomina dell'anno dal primo gennaio di quell'anno se io al dicembre propongo la mozione per ridurre l'indennità del Presidente cosa che compete a noi non alla Giunta la Giunta si attiene a ciò che è previsto dal decreto ministeriale 45% e non è neanche vero quello che c'è scritto qui che i gettoni possono essere aumentati o diminuiti ora possono essere solo diminuiti o formalmente ferdi al pabellare ritorno il 10% quindi c'è una premessa che anche qui è sbagliata ciòostante quello che diceva e riassumo per il Sindaco per possibilità e comprensione di quello che diceva il Consigliere del Movimento 5 Stelle il riferimento è che in questa proposta di deliberazione c'è la retroattività a partire dal primo gennaio tecnicamente penso che abbia ragione che sia così però l'altra volta quando ne avevamo discusso sull'approvazione dell'ordine del giorno il Sindaco si era espresso sul non applicare la retroattività no ecco quindi avrei modo di ecco quindi ecco mentre io sollevo al segretario comunale una domanda allora al segretario comunale sollevo una domanda noi avevamo a marzo votato l'ordine del giorno che portava il gettone a questa cifra cioè il mio ordine del giorno portava il gettone alla stessa cifra di oggi ed è stato respinto quindi c'è una precisa volontà del consiglio espressa in quel momento che il gettone non poteva essere in quel momento di 30 euro se oggi l'applichiamo la retroattività che succede? perché non lo so non mi so rispondere tecnicamente penso che sia retroattivo che vada applicato al primo gennaio perché un altro malcostume che esiste in questo consiglio ed ecco perché ogni anno in precedenza ho presentato la mia mozione è che l'indennità in realtà degli amministratori ma anche il gettone ai consiglieri vada rinnovata ogni anno deliberata certo ecco perché vi ricordate quel problema che avevo basso per cui avevo fatto restituire soldi delle commissioni in passato ed è la stessa cosa l'ultima quindi ecco se quell'atto la volontà espressa dal consiglio a marzo di non portare il gettone a 30 euro sul mio ordine al giorno sulla mia mozione possa essere una pietra di riferimento per l'applicazione della decurtazione adesso della riduzione del gettone questo è un quesito terzo punto non penso Angelo che le vostre proiezioni siano corrette non penso per due ragioni perché il consiglio se non sbaglio si è ridotto da 30 a 24 e quindi ci sono già sei elementi di meno sei elementi di meno che viaggiavano a 90 euro quindi a tre volte il valore attuale la proiezione io ho invito a rivederla perché la proiezione che ho fatto io porta 160.000 euro in risparmio considerando che le commissioni erano 35 componenti e adesso 35 componenti delle commissioni a 90 euro e poi a 60 l'ultimo periodo e 39 commissioni 39 componenti le commissioni attuali avevamo nella precedente amministrazione avevamo nella precedente amministrazione Angelo avevamo avuto delle commissioni che si erano riunite con una verbalizzazione di 20 minuti le commissioni attuali fino a meno prima di dimettermi quello che ho partecipato io sono durato e hanno avuto tanti punti all'ordine del giorno quindi io vi inviterò a rivedere questi dati perché un gettone c'è un terzo il numero dei consiglieri che si è ridotto da 10 elementi il numero di consigli che rimane costante no che rimane costante il numero di consiglieri che rimane cioè di consigli comunali che rimane costante il numero di commissioni che non mi sembra che sia così superiore e ti rispondo no questo era per aggiungere un'altra cosa e poi chiudo non convocate le commissioni questo è venuto a fare un conferenza capigruppo quello che dici tu cioè il risparmio che io prevedo potrebbe essere inficiato se in questo comune continua il malcostume di portare alla conferenza del capigruppo iscrizioni all'ordine del giorno che non sono passate in commissione per cui la sera spossa della conferenza viene inoltrata la convocazione per un punto allora io dico che la riduzione delle spese e dei costi derivati dalle commissioni è in capo a voi non a noi che facciamo parte o io che facciamo parte delle commissioni perché io devo ammettere a meno per la commissione finanza a cui ho partecipato il presidente Guidarelli abbiamo sempre siamo stati sempre più di ore in commissione abbiamo sempre trattato più punti all'ordine al giorno approvato sette dieci quindici proposte di deliberazione che in consiglio sono stato approvato nel giro di un quarto d'ora sette atti quindi a dimostrare di come se la commissione funziona ci sia un risparmio economico poi temporale nel consiglio quindi vi inviterei un'ulteriore solerzia le commissioni ragazzi gli atti perché scadono fra pochi giorni non convochiamo la commissione per il parere costruiamolo prima diamo il tempo necessario adesso avremo tutti gli atti per un tre giorni dal deposito e quindi riusciremo anche come minoranza ad avere qualche chance in più di migliorare l'efficienza di questa amministrazione grazie presidente bene consiglio Ottaviani prego consigliere Dino Cenzo ma io annuncio che non parteciperò alla votazione di questo punto all'ordine del giorno per un motivo molto semplice perché e qui mi rivolgo a tutti i consiglieri comunali perché io questa rincorsa alla demagogia io non ho votato contro un proprio il giorno di io cerco sempre di tenere una coerenza io qui non parlo come esponente di partito parlo come persona fisica e non sono d'accordo alle rincorse come dicevo prima alla demagogia e soprattutto questa rincorsa alla stupidità del genere umano e cercherò anche in questo mio breve intervento di spiegare anche il perché che secondo me con questo atto noi stiamo prendendo in giro i cittadini che la politica dovrebbe funzionare perché la politica dovrebbe assumersi le proprie responsabilità e non è riducendo un gettone di presenza da una cifra ad un'altra che si fa il bene della comunità anzi a volte il contrario perché se lavorassimo tutti in maniera un po' più seria io vedo ci sono dei punti all'ordine del giorno che che fanno sorridere i più ingenui tra i nostri cittadini quello è il problema vero che noi spesso veniamo qui e perdiamo tempo noi spesso veniamo qui e facciamo giri e rigiri sulle parole sulle affermazioni su degli atti che non hanno nessun significato quella è la vera perdita del tempo è la vera perdita della politica nei confronti dei cittadini io su entro in merito perché stavo sollevato prima da Rossi poi anche da Marco Ottaviani ricordo che quando fu votato l'atto Sagramola disse non stiamo qui il problema della retroattività non è fondamentale lo approfondiremo successivamente dice però no simile io non so non è che mi appunto le cose però il concetto era questo dice non è fondamentale che potremo discutere al momento che l'atto ritornerà certo la cosa che ritornando alla stupidità del genere umano la cosa che mi sorprende e già ho avuto modo di poterlo affermare precedentemente è stata la bocciatura dell'atto deliberativo lo chiamo atto deliberativo segretario comunale del consigliere Marco Ottaviani perché io devo spiegare ai cittadini non so se ci guardano se è ancora accesa la webcam come è possibile che un consigliere comunale proponga una riduzione del gettone di presenza il consiglio comunale bocci in quella seduta bocciato la proposta dopo qualche giorno esce una conferenza stampa addirittura della giunta del sindaco che rifà la stessa proposta già bocciato un mese prima questa è un'altra perdita di tempo e di energie altra perdita della politica nei confronti della città perché la fortuna nostra è che i cittadini fuori da queste mura stanno vivendo una crisi talmente profonda che non ci seguono più neanche perché se qualcuno che si annotasse le cose che diciamo qui dentro si rendesse conto che qualche consigliere ha votato le due cose non nella stessa maniera apriremo dei confronti apriremo delle discussioni che non finiscono non finirebbero mai ma dico ma ci rendiamo conto stiamo parlando il gettone di presenza di 30 euro per un consigliere comunale qui in questa città abbiamo degli eletti a livello nazionale che percepiscono mi sembra ho fatto i calcoli e poi posso sbagliare perché non sono una persona così attenta ai numeri 18 mila euro al mese queste persone si sono presentate in consigli comunali per le elezioni al consiglio comunale sono arrivati a 30 40 50 60 preferenze questi oggi guadagnano 18 mila euro e voi consiglieri comunali in maggioranza vi portate il vostro gettone a 30 euro voi che siete andati a chiedere i voti voi che venite qui che perdete il tempo sottraete tempo alle vostre famiglie alle vostre attività lavorative e con quale qualcuno mi dice con la macchina certo prendiamo il caso di Castriconi Castriconi vive a Belvedere dove sei? a Belvedere a Campodonico mi hai promesso mi invitavi a merenda non mi hai invitarlo mai quando mi inviterai sapremo no? e questo signore viene qui prende la macchina la notte l'inverno tutto per 30 euro non so se neanche bastano i soldi 30 euro l'ordine certo stiamo parlando di 30 euro l'ordine poi penso che giustamente il Consiglio Comunale oltre a determinare il costo dei gettoni di presenza debba anche esprimersi sul discorso del Presidente del Consiglio perché allora dato che affrontiamo con la massima attenzione il discorso del compenso per gli amministratori che poi può evitare problemi se qualcuno di noi propone proponesse l'idea o l'atto di annullare i gettoni di presenza non mi troverebbe neanche del tutto sfavorevole allora annulliamo tutto poi consiglieri comunali veniamo qua tutti quanti gratis signori della Giunta Sindaco Presidente del Consiglio facciamo tutte la nostra attività in maniera gratuita perché se è una guerra della demagogia facciamo a chi la spara più grossa no? certo in un momento in cui propone una cosa sta sparisciuta la Giunta no? allora io vedo la Giunta che si preoccupa del Consiglio Comunale e Gino mi dice sì dopo bisogna bisogna vedere come votate però e stai a fare così con la testa da noi in Italia quando uno fa così con la testa dice sì adesso sì ecco stai tremando al freddo eh dovremmo tremare al freddo allora qui c'è una Giunta un'amministrazione che viaggia perché hanno i loro compensi giustamente dico io hanno i loro fondi a disposizione per l'attività politica mentre i consiglieri comunali a differenza del Presidente del Consiglio non hanno neanche la stanza per potersi riunire come stabilito dal nostro statuto penso anche al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale non esistono i fondi per i gruppi consigliari per poter a differenza di quello che succede in Giunta e per il Presidente del Consiglio non esistono i fondi per i gruppi consigliari per fare attività politica e questa linea è una rincorsa alla demagogia che se il Sindaco mi consente io perché non ho una gran memoria però ricordo bene in una conferenza dei capigruppo che penso che Sagramola abbia detto dice perché anche su Facebook ci stanno spingendo a ridurre i costi della politica i costi della politica io penso a Roma penso al Consiglio regionale penso ai soldi spesi per le province no Parlamento non penso che sia il problema dei 30 euro l'ordine del Consigliere Comunale disse perché anche su Facebook ho avuto delle pressioni bene la stessa persona che ha fatto le pressioni perché è sempre una persona ma non possiamo dettare la linea politica perché una persona ci manda delle indicazioni la stessa persona che quotidianamente scriveva dei gettoni di presenza della politica che non faceva niente le responsabilità della politica fabrianese appena stava votato in questo Consiglio Comunale la riduzione del gettone ha scritto mi siete ridotti i gettoni di presenza perché siete le prime persone consce del fatto che non siete all'altezza di sedere su quei banchi siccome vi vergognate di stare su quei banchi vi siete ridotti i gettoni perché questa è la rincorsa alla demagogia perché qualsiasi cosa fai per queste persone in questo momento tutto ciò che è politico è schifo ma noi non possiamo cadere in questo tranetto perché noi in un momento difficile come questo che dovremmo raccogliere le nostre energie e cercare di essere propositivi per una politica migliore quindi io non entro tanto nel merito dei 30 euro 40 euro 50 euro 60 euro quella è una cosa che andrebbe avremmo dovuto scoprire tutti insieme e non è neanche vero che le età mi legge siano così vincolanti però mi domando e chiudo questo mio breve intervento guardando guardando gli assessori tini e balducci guardando sforza meloni crocetti questi signori nel 2004 nel 2005 in un emendamento del bilancio proposero l'aumento del gettone a 100 euro eh no no non mi sbaglio anch'io certo tini certo e ricordo pure la discussione che io dissi non sono d'accordo io eravamo io la di Bartolomeo però firmiamo perché è un atto ci assumiamo la nostra responsabilità ma oggi vedere che le persone che nel 2005 hanno detto che era giusto che un consigliere comunale avesse preso 100 euro a seduta vengono addirittura alcuni loro anche addirittura hanno riproposto l'atto in consiglio comunale che nel 2013 è giusto che per quel lavoro se ne prendano 30 se tu rimedi c'è qualcosa che non batte parco questa è una rincorsa alla demagogia o ci siamo sbagliati prima o ci siamo sbagliati oggi o è una rincorsa alla demagogia o veramente è una rincorsa alla stupidità del genere umano io quella volta votai contro la mia volontà e lo espressi pure al microfono acceso dell'aumento del gettone presenza ma votai e sottoscritto scrissi l'emendamento come fecero tutti i capigruppo da allora e oggi dopo dieci anni undici anni non possiamo venire qui e dire che nel 2005 era giusto prendere 100 euro a gettone di presenza e oggi 30 c'è qualcosa che non va forse veramente se siamo arrivati a questi livelli non meritiamo non meritiamo neanche 30 non meritiamo niente ecco perché la politica perde di credibilità ecco perché i cittadini ci seguono sempre meno ecco perché la politica produce questo livello di politica perché invece di pensare ai problemi veri e ai problemi reali rincorriamo un pazzo su facebook un pazzo tra l'altro un amico mio un conoscente mio perlomeno che ci manda questo avviso e tutto il palazzo va in escandescenza e così facciamo una bella figura ma il tutto il tutto è concentrato è amplificato sull'ordine del giorno sulla mozione non mi ricordo quello che era di volta di anni perché noi non possiamo un mese votare contro e un mese dopo votare a favore quindi io siccome vorrei mantenere alta la mia dignità ma non la dignità relativa ai 30 euro 25 euro 50 euro non voglio entrare in merito a quello ma siccome una volta ho preso una decisione e l'ho presa pure a male in cuore ma mi sono assunto la responsabilità sarebbe stato troppo facile che forse Italia e alleanza nazionale quel giorno non avessero sottoscritto quel documento siccome l'ho fatto allora oggi non posso fare il contrario soprattutto dopo 11 anni di inflazione e quindi finito il mio intervento ascolterò gli altri interventi in merito e prima della votazione uscirò dall'aula bene consigliere di licenzo prego consigliere urbani bene presidente la ringrazio io sarò prego appre le c'è whoever rip Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, intanto che prepara l'emendamento andiamo avanti. No, no, io ho chiesto, infatti ero un attimo ritubando, c'è il fatto che si potrebbe essere ovvio al giorno. Prego consigliere Paletto. Sì, grazie Presidente. Io sono d'accordo con tutti i discorsi che sono stati fatti, ricordati i vari passaggi, ordini del giorno precedente bloccati, respinti e così via. Io penso che bisogna partire un po' più da lontano da un discorso politico. Il problema di questa amministrazione secondo me è che si fanno troppi proclami. Si fanno i programmi, si fa sul giornale, si fa tutto per acquisito come se tutto fosse stato già approvato prima di passare in Consiglio Comunale, prima di passare nelle commissioni e così via. Quindi si fa sul giornale, proprio come diceva qualcuno, per premere il giro i cittadini. Sembra che noi siamo qui, che siamo privilegiati, stiamo in un gioconale, sappiamo privilegio. Consigliere Urbani, scusi, puoi chiudere il microfono? Ah, scusi. E quindi... No, no, non è il mio aspetto. Eh? E' spinto. Mi sposto. Dicevo, scusate, che siamo privilegiati, quindi di fronte ai cittadini continuiamo ancora con questa velicittimazione delle istituzioni e con questo populismo. In più, qui mi sembra di ritornare, non capisco, anche il mio partito, cioè no, il mio partito, ex mio partito, che sta lì a sopportare, diciamo, questa amministrazione. Mi sembra che mi sembra di ritornare con la vecchia democrazia cristiana, con tutto rispetto, a volte bisognerebbe che veramente quelle persone ritornassero quelle di una volta, dove per stare insieme, prima ti chiede un'unghia, gli chiede l'unghia, poi ti chiede il dito, gli chiede il dito, poi non litighiamo, gli chiede il braccio. Alla fine uno non si riconosce più, no? E quindi stiamo assistendo a questa sceneggiata, insomma. I rimborsi, tra l'altro, non li dovrebbero dare più perché a quelli che avevano fatto rimborsi perché lavorano, oramai bisogneranno perché è passata, quindi su quello non credo che possano essere retrattivi. Quindi si tratterebbe di otto consigli comunali, perché con questo oggi ne abbiamo fatti otto, quindi circa dieci mila euro. Stiamo a discutere, siamo stati già due o tre giornate. Inoltre, queste riduzioni, eventualmente, dovranno comprendere tutti, non solo i consigli comunali, io penso a tutti quanti, anche l'amministrazione e la giunta, cominciando dal sindaco fino a tutti gli assessori, perché veramente, mi sembra che noi stiamo qui e di fronte all'opinione pubblica e a questo populismo, che i costi della politica sono quelli che prendiamo noi, sono quei pochi soldi, come diceva Urbani, che alla fine si rivolgono a 15-20 euro. e quindi non mi sembra che oggi bisogna vedere questo, perché anche la retrattività, dice il bilancio si fa a inizio anno perché dobbiamo fare le previsioni, lo dobbiamo fare il bilancio. Il bilancio si fa 5 mesi con i costi che sono stati in questi 5 mesi, gli altri 7 si fanno i costi, dei prossimi 7, quindi non vedo, il bilancio ancora non è stato fatto, quindi non vedo nemmeno questo problema. Quindi sono contrario a votare questo ordine del giorno, anche se la tre volta sono stato favorevole alla riduzione del gettone. Grazie consigliere Paoletti, io non ho... Ah, prego consigliere Magliali. Grazie presidente, solamente una precisione per il mio collega qua dietro. Allora, io sono d'accordo con Angelo, con il vice sindaco, per quanto riguarda il discorso di riduzione, partenza da gennaio perché giustamente il bilancio parte da gennaio. Non sono d'accordo sull'analisi che riguarda la riduzione dei costi, in quanto comunque sicuramente incideremo di meno rispetto a quello che sarebbe stato con una tariffa piena, quindi comunque prendiamo positivamente il fatto che diminuisca il gettone. Poi c'è un po' di verità in tutto quanto, nel senso che posso essere d'accordo con Urbani che parla, se dobbiamo dare un segnale diamole forte, non è, come diceva prima, io solito una questione di... Scusate, devo riprendere il mio collega. Ok. Non è una questione di soldi, è una questione di forma, quant'altro. Cioè, l'unica cosa che faccio presente, cerchiamo di essere correnti, nel senso che facciamo queste cose, perché qui chiudiamola questa vicenda il più presto possibile, siamo passati per litigate impressionanti, proteste allucinanti, perché avevamo chiesto la riduzione dei gettoni, poi alla fine l'avete presentato a voi, noi non la votiamo, chiudiamo per favore questa cosa. L'ultima cosa, i parlamentari, non so se avete riferito i due parlamentari del nostro Movimento 5 Stelle, e poi l'altra è Maria Paola Merloni, che non so quale sia l'atteggiamento al riguardo, hanno ricevuto, di certo, 19 mila euro per l'esattezza sul loro conto corrente per un mese e mezzo di lavoro, e siccome non hanno votato contro il Parlamento per la creazione di un conto dove era possibile mettere i soldi, perché noi teniamo solamente 5 mila euro l'ordi più rimborsi spese di questi soldi, momentaneamente hanno accantonato su un loro conto, su un altro conto, i soldi che c'erano questa parte. Quindi questo era per correttezza, perché dire in esattezza non è da testa, è stato preciso prima... Ehm... Ehm... Grazie a tutti. 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 un'indicazione. Grazie a tutti. 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 la votazione è aperta. Grazie a tutti. 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 3. La prima. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. in questi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. per vedere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.